Iniziamo questa giornata di lavori, il tema è abbastanza importante perché parliamo di antiriciclaggio e sarà un convegno puramente tecnico, cercheremo di sviscerare quelle che sono le varie problematiche per l'assolvimento di questo decreto legislativo, qui di fianco a me c'è la dottoressa Isabella Fontana del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ci sono i consulenti delle associazioni di categoria che ci forniranno delle linee attuative e poi ci sarà un secondo momento in cui dopo le varie relazioni porremo delle domande cercando sempre di dare risposte concrete. Chiaro che la materia è abbastanza ostica, il decreto legislativo è stato da poco emanato quindi abbiamo poi la necessità insieme al Ministero appunto di elaborare eventualmente su domande e osservazioni che dovessero giungere delle risposte che siano confacenti al diritto ma anche all'esecuzione pedisse qua da parte degli agenti immobiliari. Oggi siamo ospiti della Camera di Commercio di Roma, questo convegno è stato organizzato dalla consulta interassociativa, la FIMA, FIAI, PEANAMA con l'ausilio di Tecnoborsa. Per questo motivo porta i propri saluti il Vice Presidente della Camera di Commercio di Roma e il Presidente di Tecnoborsa, Walter Gianmaria. Prego. Buonasera a tutti, intanto io come prima cosa vi ringrazio dell'invito, ringrazio tutti i partecipanti e ringrazio un particolare ringraziamento ai Presidenti della Consulta, Paolo Righi, Santino Taverna e Paolo Bellini per aver proposto un momento di riflessione su un tema così importante, attuale, qual è l'antiriciclaggio. La Camera di Commercio di Roma con Tecnoborsa è ovvio vicino agli imprenditori del settore immobiliare insieme vorremmo fare moltissime cose, vorremmo risolvere alcuni problemi che questo mondo vive però sappiamo che molti problemi ci sono e molte difficoltà pure. Io sono particolarmente lieto di essere oggi qui con voi per discutere e confrontarci sulle modifiche intervenute a seguito del decreto legislativo e che riguardano in particolare gli adempimenti e le attività che coinvolgono gli agenti immobiliari in materia di antiriciclaggio, oltre a dimostrare ancora una volta come il mondo dell'aggregazione professionale e imprenditoriale sappia farsi parte dirigente e unirsi quando ciò risulta opportuno e necessario provando a trovare strade comuni e vincenti. La consulta interassociativa delle intermediazioni immobiliare in collaborazione con Tecnoborsa noi ci siamo resi disponibili su questo ha voluto organizzare questo incontro non solo per confrontarci su una materia delicata e importante ma anche per fornire, grazie alla presenza dei votorevoli rappresentanti del MEF e della Banca d'Italia che ringrazio per aver dato la loro disponibilità a partecipare a questo convegno e la loro disponibilità un quadro completo e dettagliato degli adempimenti per gli agenti immobiliari una materia trattata quotidianamente dagli stessi che si fa sempre più articolata e complessa per supportare l'attività dell'autorità competente l'Agenzia delle Entrate e la Polizia Tributaria Ascolto spesso in qualità di Presidente di Tecnoborsa e della Borsa Immobiliare di Roma gli agenti immobiliari ma quando ho saputo di questo momento di confronto ho ritenuto di fare un'ulteriore verifica tra i mediatori in tema dell'antiriciclaggio per capire cosa in realtà si è percepito di tale norma è un attempimento che riscontra problematiche ci sono difficoltà operative dubbi interpretativi è onoroso rispettare la normativa in termini economici e di tempo ne è emerso un quadro semplice molto articolato e spesso poco chiaro un disposto introdotto alcuni anni fa che ha comportato un attempimento gravoso in termini di responsabilità ma anche di risorse dedicate grazie ad alcune iniziative informative e informative avviate dalle associazioni di categoria e le borse immobiliari la categoria è riuscita a comprendere e attuare al meglio quanto disposto dalla normativa ma oggi con le recenti novità che hanno modificato ulteriormente le procedure mi sono posto un'ulteriore domanda il lavoro degli agenti immobiliari è stato compreso nella sua interezza e quindi ottimizzato per consentire di adeguarsi a quanto richiesto gli adempimenti sono gestiti in parte con procedure e in parte con analisi audit effettuati dagli stessi mediatori in relazione a notizie, percezioni, documenti che acquisiscono durante le fasi di trattazione degli affari tali da insospettire o far sorgere i dubbi o ancora confermare i evidenti ottenuti dalle fasi precedenti per cui l'eventuale ipotesi di reato deve essere annotato e segnalato la norma vigente le procedure previste i sistemi adottati possono essere considerati realmente efficaci ma soprattutto poteva essere concepito e congegnato in modalità diverse il contrasto al riciclaggio di capitale con le provenienze illecite di certo il recente decreto legislativo 90 del 2017 provvedimento che recepisce le direttive OE 2015 849 nota come direttiva antiriciclaggio prepara notevoli modifiche per le prassi attuali e introduce anche nuove obblighi per i soggetti coinvolti il nostro obiettivo oggi deve essere quello di portare qualche elemento di carezza sui metodi di applicazione e se possibile lanciare un segnale di compattezza della categoria dei mediatori e proporci nelle sedi opportune affinché pur mantenendo inalterata la nostra devozione al sistema in piena collaborazione si venga dotati di procedure opportune, serie e attuali che con esse si riconosca pienamente lo status professionale degli agenti immobiliari io dico che i problemi sono tanti non voglio entrare ancora più dettagliatamente perché tecnicamente ci sono diciamo gli esperti delle associazioni ma penso che quello che noi possiamo dire come si sta avvivendo in altri settori in altri diciamo comparti del settore del commercio, del turismo e tutto quello che ne deriva noi molte volte ci sostituiamo a ruolo che non è nostro quello del controllo qui per quanto riguarda tutto l'antiriciclaggio negli altri settori ci sono altri settori come il turismo che fanno da diciamo da operatori economici che riguardando magari come la tassa di soggiorno per il settore del turismo noi facciamo il ruolo che dovrebbero fare il comune oppure la regione oppure diciamo i settori del ministero molte volte ci poniamo diciamo come soggetto noi non dovremo fare come operatori questo tipo di lavoro però per una seria collaborazione con le istituzioni molte volte ci poniamo e risolviamo anche questi problemi molto diciamo deve essere molto semplificato non deve essere un peso per l'operatore perché è ovvio che l'operatore deve fare un altro ruolo deve svolgere il suo ruolo di imprenditore non di sostituirsi diciamo alle istituzioni io ringrazio e vi ringrazio per l'opportunità e buon lavoro di questo autorevole convegno buonasera ringraziamo il presidente Gian Maria siamo in attesa del sottosegretario della giustizia Cosimo Ferri che arriverà impegnato per portare i saluti alla categoria e comunque iniziamo i lavori poi Cosimo arriverà e ci dirà la sua iniziamo i lavori e introduce l'attuale giornata il presidente nazionale di FIMA Santino Taverna prego Santino buongiorno a tutti grazie Paolo due Paoli allora oggi con il decreto legislativo 90 la normativa antiriciclaggio è diventata più razionale funzionale anche per la categoria degli operatori immobiliari l'obbligo principale di adeguata verifica della clientela subito lievi variazioni in ordine al momento in cui deve essere effettuata ma sono stati meglio disciplinati i criteri per l'individuazione dei titolari effettivi delle società ecco questo è stato infatti era un aspetto che ovviamente creava delle problematiche è stato previsto l'istituzione di un'apposita sezione nel REA nel registro delle imprese per permettere i soggetti obbligati di poter accedere più facilmente a questa consultazione comunque saranno gli autorevoli relatori presenti al tavolo che poi approfondiranno il tema ed entreranno nella tematica per orientare gli operatori alla corretta interpretazione però sarebbe comunque opportuno ed auspicabile che in merito all'obbligo per la clientela di fornire per iscritto le informazioni necessarie per adempia la normativa ci fosse anche la disponibilità della pubblica amministrazione a contribuire con un'adeguata informativa verso i cittadini per sensibilizzare la maggior disponibilità perché non è nemmeno corretto e giusto che tutto debba rimanere sulle spalle degli operatori per convincerli ad adempiere ad una normativa che di fatto compete anche agli stessi fruitori del nostro servizio e su questo aspetto io dico anche che le agenzie immobiliari si sono sempre adeguati agli adempimenti di cui sono stati investiti in cui sono stati coinvolti ma si sono trovati spesso da soli a fronteggiare la scarsa collaborazione della clientela soprattutto che quando disinformata dimostra reticenza nel prestarsi ad assolvere gli obblighi della disciplina e si deve anche prendere atto della continua indisponibilità delle istituzioni per permettere alla categoria di poter erogare dei servizi di eccellenza non solo nell'interesse dei cittadini ma anche e soprattutto nell'interesse della stessa pubblica amministrazione mi riferisco per esempio alla richiesta rimasta tuttora in evasa tuttora in attesa di risposta per permettere anche agli operatori immobiliari di poter accedere alla consultazione della schede catastale per via telematica come già consentito a geometri architetti ingegneri e ai notai io lo ritengo un passaggio estremamente importante non solo per facilitare le verifiche a tutela delle parti coinvolte nella compravendita ma anche per permettere a noi operatori immobiliari di contribuire a rimediare le molteplici incongruenze che emergono spesso tra le schede catastali presentate all'Agenzia delle Entrate e l'edificato sul territorio e dato che qualche operatore è già stato coinvolto in giudizio per le incongruenze immerse sull'immobile veicolato sul mercato io ritengo che sarebbe opportuno che anche gli operatori immobiliari fossero agevolati nell'utilizzare gli strumenti necessari l'agente immobiliare infatti è il primo soggetto a visitare un immobile che deve essere compravenduto ed è pertanto in grado con le schede catastali se dovessimo essere facilitati anche nel poter avere questa disponibilità ad essere facilitato non solo a rilevare le eventuali incongruenze o difformità ma anche per poter suggerire le possibili soluzioni coinvolgendo gli altri attori della filiera ognuno ovviamente nel rispetto dei propri ruoli quando si chiede qualcosa alla categoria si deve sempre essere disponibili e scattare sull'attenti mi viene voglia di dire quando è la categoria a chiedere qualcosa alla pubblica amministrazione tra l'altro nel reciproco interesse purtroppo si tende a fare orecchie da mercante e ripeto che la categoria è sempre stata disponibile alla collaborazione con le istituzioni e la pubblica amministrazione oltre all'antiriciclaggio coinvolta nella responsabilità in solido con le parti per la registrazione delle scritture private non autenticate di natura negoziale è sempre disponibile presente nelle commissioni dell'OMI l'osservatorio nel mercato immobiliare per fornire semestralmente i dati sull'andamento del mercato ed è di questi giorni anche la normativa sulle locazioni brevi con gli operatori di nuovo relegati nel ruolo di sostituti di imposta per contribuire alla lotta all'evasione fiscale e di questa nuova incombenza sulle locazioni brevi l'aspetto più deleterio è vedere legittimare con la veste di sostituto di imposta l'esercizio abusivo di questa attività perché questo è il tema grave cioè tu sei sostituto di imposta quindi a prescindere dall'abilitazione della 39-89 l'importante è che tu sia un sostituto di imposta che versi quello che deve essere versato lo Stato e poi ognuno è libero di fare quello che vuole e questo penso che sia ancora più grave al di là dei tempi o delle incombenze con cui è stata dotata la normativa senza nemmeno prestare attenzione o ascoltare le parti coinvolte ed interessate io lo dico in maniera molto serena tra l'incombente che capita sugli operatori immobiliari e legittimare l'abusivo non c'è dubbio che bisognerebbe perseguire di impedire l'esercizio abusivo dell'attività non c'è benvenga l'incombente se non ci sono gli abusivi io la penso in questi termini perché dato che il codice civile recita che il mediatore è colui che mette in relazione due parti per la conclusione di un affare i portali che operano con questa modalità incassando compensi ad operazione avvenuta quando in assenza dell'abilitazione della 39-89 sono da considerarsi semplicemente degli abusivi io non ho altre parole con cui definirli e se a questo si aggiunge anche l'obbligo per gli operatori immobiliari italiani penso l'unica categoria al mondo di dover dichiarare in atto notarile l'entità dei compensi impercepiti in sfregio anche la normativa della privacy è sempre più difficile poi rendersi consenzienti a nuove incombenze che sottraggono ovviamente tempo lavoro e denaro al nostro lavoro quotidiano e penso che non sarebbe male se qualcuno decidesse di mettere mano a queste normative che continuano a discernere tra figli e figliastri i contribuenti di questo Paese con palesi di sparità verso altri soggetti o categorie che operano in questo comparto perché non anche i falegnami perché non anche i notai perché non anche i piastrellisti allora che dichiarino anche loro il compensinato notarile come siamo obbligati noi e penso anche che una volta dichiarato il nome dell'agente o dell'agenzia immobiliare con il numero di iscrizione a rea e i dati della fattura emessa io ritengo che si possa ritenere esaudita la razza di una legge che continua a provocare la sgradevole sensazione di essere considerati dei sorvegliati speciali scusatemi ma è un'amarezza che ogni tanto sarebbe opportuno ricordare per non farla cadere nel dimenticatoio io ritengo che l'agente immobiliare sia una fonte inesauribile di dati e di informazioni che altri soggetti non hanno ed è un vero e proprio attivatore economico sociale che alimenta come ha sempre fatto l'economia del paese è un acceleratore delle operazioni delle compravendite grazie alla propria capacità di agevolare gli scambi dei prodotti di cui come nessun altro conosce i valori di mercato gli agenti immobiliari sono operatori in grado di stimolare e compensare e ovviare anche le incertezze della clientela garantendo la bontà delle operazioni nelle quali sono spesso coinvolti i risparmi e i sacrifici di una vita delle persone come nell'acquisto della casa e in questi anni di crisi mi permetto anche di dire che gli agenti immobiliari hanno anche contribuito a salvaguardare il valore del patrimonio immobiliare dei cittadini cercando di difendere i prezzi immobiliari dai ribassi speculativi e sul decremento dei valori non volevo dirlo ma la dico la politica dovrebbe guardare anche verso chi ha erogato negli anni denaro facile senza doverne rispondere e limitare se non impedire ad alcuni soggetti digerire in altri comparti dell'economia per non ritrovarsi poi un'altra volta con altri conti da pagare sulle spalle della collettività nel corso del 2016 perché non è ancora finito siamo in una fase di ripresa ma gli effetti di questa crisi si sentono ancora perché nel corso del 2016 sono state più di 260.000 le sedute d'asta le sedute d'asta giudiziarie per crediti concessi su immobili poi andati in default ed è un'onda lunga questa senza toccare il discorso degli NPL che arriveranno sul mercato circa 70.000 immobili si parla aggiudicati nel corso del 2016 alle aste giudiziarie è vero che si tratta comunque di compramendite ma bisogna anche dire però che non è certo tramite queste procedure che si può contribuire alla stabilizzazione dei prezzi e io chiudo con l'invito per gli operatori di perseguire come primo obiettivo il consenso dei consumatori un fattore indispensabile per le sorti di questa attività dico io i fruitori del servizio sono la prima vera ricchezza di ogni operatore e in questa proiezione è necessario che tutti nessuno escluso operino in questa direzione per tutelare la categoria e permettere alla stessa di interagire in quote maggiori di mercato non dimentichiamo che nell'interazione siamo sempre rimaniamo sempre fanalino di coda dell'Europa serve non solo per il futuro della federazione della professione ma è altrettanto importante per amplificare la voce della categoria nel rapporto con le istituzioni e la pubblica amministrazione gli agenti immobiliari sono soggetti indispensabili per la funzionalità del mercato e nell'attesa che la politica possa dedicare un briciolo d'attenzione in più anche verso questa categoria senza caricarla di ulteriore incombenze continuiamo a cercare di contribuire alla ripresa di un settore capace di produrre il 20% del PIL italiano anche questo potrebbe permettere alla categoria di riappropriarsi della dignità che questa attività si merita grazie per l'attenzione entriamo quindi nel vivo del le istituzioni saranno divise in tre argomenti il primo è l'obbligo di adeguata verifica della clientela titolare effettivo l'individuazione di titolare di effettivo il secondo argomento sarà quello degli obbligi di conservazione e segnalazione e poi l'avvocato Mammani ci parlerà dell'obbligo di astensione del sistema sanzionatore quindi saranno relazioni abbastanza brevi di 10-12 minuti quindi invito i relatori a essere abbastanza sintetici e successivamente poi eventualmente prendete nota se avrete delle domande alla fine delle varie relazioni poi potremmo ricevere appunto le vostre domande e farle ai nostri consulenti quindi l'avvocato Corvi sul tema numero uno prego Buonasera a tutti innanzitutto vi ringrazio per l'invito a partecipare a questo momento di confronto su questo argomento così attuale e così importante vado subito al dunque vista la ristrettezza dei tempi l'adeguata verifica diciamo è e rimane nonostante le modifiche apportate al decreto legislativo 231 2007 dal decreto legislativo 90 2017 che ha appunto riscritto il testo del 231 che rimane tuttavia il testo legislativo di riferimento per la materia degli adempimenti antiriciclaggio così come riscritto appunto da queste norme entrate in vigore appena lo scorso 4 luglio dicevo l'adeguata verifica rimane tanto più con l'abrogazione dell'obbligo di registrazione a cui si è già fatto sceno e di cui parleranno poi più compiutamente gli altri colleghi rimane il fulcro degli adempimenti antiriciclaggio ma io ritengo che prima di esaminare quali sono le modalità di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica è necessario individuare il momento in cui scatta l'obbligo e quindi il momento in cui l'agente immobiliare deve preoccuparsi degli adempimenti antiriciclaggio la risposta la troviamo nell'articolo 17 nel nuovo articolo 17 del decreto legislativo 231 che richiama appunto i casi in cui sorge l'obbligo degli adempimenti facendo riferimento in particolare all'instaurazione di un rapporto continuativo al conferimento di un incarico per una prestazione professionale oppure all'esecuzione di un'operazione occasionale che comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo superiore ai 15.000 euro ora il primo problema che si pone è quello di andare quindi a qualificare l'attività dell'agente immobiliare ad inserire l'attività dell'agente immobiliare in una di queste categorie prestazione professionale rapporto continuativo operazione occasionale diciamo che è abbastanza pacifico che l'attività dell'agente immobiliare possa essere qualificata come una operazione occasionale tuttavia le nuove norme il nuovo articolo 17 fa esplicito riferimento all'obbligo degli adempimenti e dice prima dell'esecuzione dell'operazione occasionale quindi si pone il problema di individuare qual è il momento in cui effettuare gli adempimenti il momento in cui ricevo l'incarico dai clienti parte venditrice parte acquirente ovvero il momento in cui si conclude l'operazione tanto più questo problema diciamo sorge se facciamo riferimento alle indicazioni che erano state date nella vigenza della precedente normativa in particolare con dei provvedimenti proprio ministeriali faccio riferimento al decreto ministeriale 143 del 2006 e a dei chiarimenti dell'allora Ufficio Italiano nei cambi secondo i quali gli obblighi degli adempimenti antiriciclaggio si applicavano soltanto laddove vi fosse stata la conclusione di un contratto preliminare o in mancanza definitivo o quantomeno accettazione della proposta su questo tema io chiederò anche diciamo un chiarimento al ministero alla dottoressa Fontana sicuramente potrà esserci di aiuto a capire per capire appunto come individuare il momento in cui preoccuparci quindi dell'adeguata verifica se appunto già dal momento del conferimento dell'incarico o comunque prima diciamo della conclusione del contratto venendo a quelli che sono il contenuto degli obblighi di adeguata verifica il nuovo articolo 18 elenca appunto gli step diciamo dell'adeguata verifica primo tra tutti ovviamente l'identificazione e la verifica dell'identità del cliente identificazione che deve essere fatta mediante un valido documento di identità o altro documento di riconoscimento equivollente e mediante quindi verifica della veridicità dei dati riportati nel documento con acquisizione dei dati identificativi sia per le persone fisiche che per le persone giuridiche quando andiamo a parlare di clienti persone giuridiche ovviamente ecco che diciamo troviamo un altro soggetto da identificare e il nuovo articolo 18 fa proprio riferimento a questa nuova figura ma nuova tra virgolette perché poi di fatto già prima procedevamo all'identificazione anche del legale rappresentante di colui che rappresenta una società un ente un'associazione una fondazione eccetera e quindi appunto anche per il caso dell'esecutore del cosiddetto esecutore sarà necessario verificarne l'identità mediante il documento di riconoscimento e parlando di clienti persone giuridiche sarà altresì necessario verificare l'effettiva esistenza del potere di rappresentanza mediante documentazione pensiamo l'esempio più semplice è probabilmente quello delle società rappresentate da un legale rappresentante il cui potere di rappresentanza è facilmente verificabile acquisendo la copia della visura camerale che andremo poi a inserire nel nostro fascicolo del cliente peraltro il soggetto esecutore lo troviamo anche in altre ipotesi possiamo fare l'esempio della procura quindi procura tra due persone fisiche anche qui troviamo l'esecutore che viene proprio definito dalle nuove norme come il soggetto delegato ad operare in nome per conto di un altro e appunto anche nel caso della procura quindi avremo questa doppia identificazione l'identificazione del cliente del soggetto che di fatto ad esempio acquissa o comunque vende l'immobile e dell'esecutore che è il soggetto appunto delegato a rappresentarlo nel compimento di quell'atto altro soggetto centrale degli adempimenti antiriciclaggio ormai già dall'entrata in vigore del vecchio testo del 231 è il titolare effettivo soggetto a cui viene data sempre maggior rilievo maggiore importanza da parte del legislatore a livello nazionale e comunitario e con le nuove norme introdotte dal decreto legislativo 90 sicuramente c'è stata una specificazione di quelli che sono i criteri per l'identificazione del titolare effettivo la definizione di titolare effettivo la troviamo oggi nel nuovo articolo 20 del decreto legislativo 231 e viene definito come la persona fisica o le persone fisiche che in ultima istanza dice la norma hanno la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo vengono quindi dati una serie di criteri per l'individuazione di questo soggetto il primo criterio è quello che già era stato in precedenza fornito che è il criterio diciamo della proprietà proprietà diretta o indiretta quindi andremo ad individuare come titolare effettivo la persona fisica o le persone fisiche che possiedono una percentuale di capitale sociale superiore al 25% questo tipo di partecipazione è presunzione della titolarità effettiva dell'ente della società ma laddove non fosse possibile individuare mediante questo criterio la titolarità effettiva ecco che vengono introdotti criteri alternativi in particolare il criterio del controllo quindi andremo a verificare se esistono soggetti che hanno il controllo della maggioranza dei voti in assemblea ordinaria ovvero soggetti che controllano l'ente avendo una posizione dominante all'interno dell'assemblea in virtù appunto della possibilità di esercitare un numero di voti maggioritari o in virtù di accordi contrattuali ed infine anche qualora utilizzando questi criteri non fosse ancora possibile individuare un titolare effettivo il criterio finale è quello del potere di amministrazione o di direzione dell'ente e della società come facciamo quindi ad individuare il titolare effettivo sicuramente peraltro è stato proprio specificato il dovere di andare ad assumere informazioni sull'assetto proprietario sono poi le informazioni che ci servono per verificare la presenza di questi casi e quindi verificare la presenza di uno o più titolari effettivi però diciamo che nell'individuazione del titolare effettivo un ruolo centrale lo ha lo aveva già prima lo ha tanto più oggi il cliente in quanto sono previsti dall'articolo 21 e dall'articolo 22 obblighi in capo ai clienti clienti società clienti persone giuridiche primo tra tutti l'obbligo di fornire per iscritto al soggetto obbligato informazioni tutte le informazioni che sono necessarie per adempiere all'adeguata verifica e quindi anche tutte le informazioni sulla titolarità effettiva tanto più che l'articolo 22 ha previsto anche per le società per le persone giuridiche l'obbligo di conservare informazioni adeguate accurate e aggiornate dice la norma sulla propria titolarità effettiva e di renderle disponibili ai soggetti che devono effettuare gli adempimenti quindi oltre al riscontro documentale mediante visura di solito abbiamo la possibilità appunto di far rilasciare al cliente la dichiarazione scritta e addirittura di farci fornire questa documentazione che dovrà essere detenuta ai sensi dell'articolo 22 ma ulteriore facilitazione nell'individuazione di tolari effettivi sarà la possibilità di consultare una sezione speciale del registro delle imprese all'interno della quale le società e le persone giuridiche private dovranno comunicare tutte le informazioni sui propri titolari effettivi ora l'istituzione di questa sezione speciale del registro delle imprese è demandata un decreto ministeriale che dovrà essere adottato entro i prossimi 12 mesi e nel momento in cui sarà operativo quindi come soggetti obbligati ai sensi del decreto legislativo 231 avrete gli agenti immobiliari avranno la possibilità di accedere e di visionare quindi di estrarre le informazioni relative alla titolarità effettiva io direi che possiamo posso brevemente rappresentato quelli che sono gli adempimenti di adeguata verifica ovviamente rimangono tanti altri aspetti da approfondire ma immagino che non mancheranno le occasioni assolutamente no grazie per la brevità ma anche per la chiarezza importante durante questi convegni proprio arrivare alla sintesi massima per permettere a tutti poi di comprendere eventualmente porre delle domande naturalmente poi questo convegno nelle parti tecniche sarà è registrato oltre che in streaming anche il saluto tutti i colleghi sono tanti mi dicono che sono collegati con noi poi le tre associazioni naturalmente metteranno online questo 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 convegno in modo che gli interventi possano essere diffusi al maggior numero di agenti immobiliari possibili ricordo dal 2006 gli agenti immobiliari fanno anti riciclaggio la lotta a riciclaggio è un dovere di tutti i cittadini italiani al di là della categoria noi abbiamo chiesto più volte semplificazione della norma ma mai di non fare la lotta al riciclaggio questo è un dovere prima ancora che degli agenti immobiliari di ogni cittadino italiano se vogliamo un mondo più più bello diciamo dobbiamo tutti contribuire a combattere l'illegalità e dobbiamo farlo anche personalmente nei nostri uffici nel nostro fare quotidiano dicevo appunto che le associazioni di categoria più volte hanno chiesto una semplificazione e se da un lato abbiamo visto cambiano le normative per diciamo individuazione del titolare effettivo insomma viene rafforzata un po' questa fase dall'altra parte il ministero ha ascoltato quello che la consulta ha chiesto che era quello di togliere un po' quel discorso annoso delle registrazioni dei problemi che c'erano anche in relazione poi a maxi multe che sono arrivate in questi anni chi 5 milioni chi 6 milioni chi 4 milioni di euro e proprio su questo tema cioè degli obblighi di conservazione e di segnalazione ci parla appunto Maria Vitale l'avvocato Maria Vitale prego grazie presidente grazie a tutti gli intervenuti anche a chi ci sta guardando in streaming come anticipato dal presidente Righi io mi occuperò di questa fase ulteriore che evidenzia una prima novità fondamentale che è quella appunto dell'abrogazione dell'obbligo di registrazione sappiamo che in base al precedente decreto legislativo il 231 del 2007 gli articoli 36 seguenti prevedevano a carico degli agenti immobiliari l'obbligo di dover registrare tutti i dati oltre e quindi insieme all'obbligo di conservare dati e informazioni che si acquisivano questo obbligo è stato abrogato quindi è stata recepita in questa parte la direttiva comunitaria che invitava l'Italia ad uniformarsi agli standard europei anche per rendere più competitiva l'attività dell'agente immobiliare italiano rispetto a quello di qualunque altro Stato membro in un'ottica anche di globalizzazione del mercato e allora proprio per questo motivo è stato salutato con favore questa abrogazione perché è andata proprio nel senso dello snellimento al quale è ispirata la riforma del 90 del 2017 quella di alleggerire gli adempimenti a carico degli operatori del mercato tra cui sono inseriti appunto gli agenti immobiliari così come che vengono definiti da questo decreto legislativo all'articolo 3,5 lettera E come gli agenti in affari che svolgono attività di intermediazione immobiliare quindi tra i soggetti obbligati a tutti gli obblighi che però sono previsti dalla normativa dell'antiriciclaggio escluso ormai accantonato ormai l'obbligo di registrazione vi sono gli obblighi di conservazione quindi sono rimasti gli obblighi di conservazione perché mi riallaccio a quello che è stato detto poc'anzi dal presidente Righi ed anche prima dal presidente Gian Maria c'è un un fil rouge che unisce la normativa in materia di antiriciclaggio che è quella ispirata alla collaborazione una collaborazione che richiesta a tutti i livelli sia a livello personale va bene come i cittadini ma a tutti gli operatori del mercato che per qualunque motivo vengono a conoscenza di dati di informazioni o di documenti che in qualche modo possono essere utilizzati dalle autorità competenti dall'unità di informazione finanziaria presso la Banca d'Italia ma anche da tutte le altre autorità competenti DIA la direzione nazionale antimafia le questure per combattere questi fenomeni criminosi e allora devono essere messi a disposizione per poter garantire una diffusa legalità a tutti i livelli quindi il motivo non dobbiamo mai dimenticare qual è la razza sottesa a quegli adempimenti che indubbiamente poi se eccessivamente caricati possono essere degli strumenti che vanno a rallentare l'attività del singolo operatore e dell'agente immobiliare ma sono ispirati a questo principio quindi l'obiettivo almeno dal punto di vista legislativo quale deve essere? quello di fare in modo di garantire questa collaborazione quindi anche degli agenti immobiliari con tutti gli altri livelli i livelli istituzionali ma facendo in modo che sia snellito il carico di adempimenti che invece fino a questo momento era stato chiesto agli agenti immobiliari quindi obbligo di conservazione di che cosa? Cos'è che gli agenti immobiliari sono obbligati a conservare? Con un'espressione ampia l'articolo 32 il nuovo articolo 31 del decreto legislativo parla della copia dei documenti identificativi del cliente del titolare effettivo che si acquisiscono al momento dell'adeguata verifica della clientela ma anche dell'originale e delle scritture che abbiano un'efficacia probatoria ai sensi di legge di tutte quelle altre documenti che riguardano l'operazione è un'espressione un po' ambigua che può dire tutto e può dire nulla certamente penso che siamo tutti d'accordo nel dire che i documenti che vanno conservati l'agente immobiliare ha un ruolo che è diverso da quello del notaio non si può chiedere all'agente immobiliare di conservare le copie autentiche oppure gli originali degli atti degli atti di compravendita o degli atti che riguardano l'operazione quindi siamo tutti d'accordo nell'interpretare questa disposizione in un senso più snello nel senso che sicuramente vanno conservato con il cartaceo tutta la documentazione che deve essere acquisita quindi per esempio il documento del conferimento dell'incarico oppure la dichiarazione di qual è il titolare effettivo anche in copia perché comunque una copia finché non viene disconosciuta sul piano probatorio a livello giudiziario comunque ha il suo valore se invece del documento cartaceo si utilizza come forse è sempre più auspicabile così invitare l'elemento cioè lo strumento informatico e quindi si procede alla conservazione del documento con archivi informatizzati allora potrebbe essere quell'espressione conservazione delle scritture aventi efficacia probatoria probabilmente potrebbe essere conservata secondo la normativa della conservazione dei documenti informatici tramite firma digitale in modo tale che si dà una certezza anche del momento dell'acquisizione quindi in buona sostanza tutti i documenti che vanno conservati sono quei documenti che contengono nel loro proprio dal punto di vista materiale gli elementi che poi possono servire a chi all'unità di informazione finanziaria alle altre autorità competenti per combattere e contrastare il fenomeno del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo quindi i documenti che contengono i dati identificativi del cliente del titolare effettivo e dell'esecutore la data del conferimento dell'incarico oppure dell'inizio se il rapporto è continuativo dell'inizio del rapporto continuativo questi sono gli elementi soggettivi gli elementi oggettivi quelli che riguardano l'operazione la natura lo scopo dell'operazione ovviamente se parliamo di agenti immobiliari parliamo di atti di compravendita l'importo dell'operazione la causale quindi sono tutti i documenti che possono contenere questi elementi vanno conservati allo Stato il legislatore ritiene conforme alla normativa la conservazione del documento cartaceo del fascicolo del cliente lo dice espressamente il decreto legislativo il fascicolo del cliente è idoneo è considerato un mezzo adeguato per l'assolvimento dell'obbligo di conservazione dei documenti riguardo alle modalità di conservazione qui dobbiamo fare una qualche riflessione perché innanzitutto la prima e non è un caso che la prima disposizione che il legislatore pone a carico di chiunque è che bisogna fare attenzione nel momento in cui si vanno a conservare questi dati molti dei quali sono dati sensibili bisogna fare attenzione e comunque rispettare la normativa sulla privacy la normativa sulla protezione dei dati personali e sul relativo trattamento nel senso che la conservazione di questi dati è consentita ma ovviamente soltanto perché è messa in relazione alla finalità che è prevista dalla normativa antiriciclaggio non si possono conservare questi dati ad esempio a fini pubblicitari e quindi ne possono essere utilizzati a fini pubblicitari i dati che si conservano ma soltanto perché devono essere messi accantonati in modo tale che in qualunque momento e nell'arco temporale di dieci anni da quando dal conferimento dell'incarico se la prestazione è unica ovvero dalla cessazione del rapporto continuativo se appunto il rapporto è continuativo nell'arco di dieci anni devono essere conservati in modo tale che l'autorità competente nell'arco di questi dieci anni se sta svolgendo delle indagini su qualcuno di quei nominativi può prontamente chiedere anche all'agente immobiliare come a qualunque altro soggetto obbligato di fornire tutte le informazioni che sono state conservate per legge per poter svolgere e fare gli accertamenti del caso quindi per dieci anni vanno conservati questi dati queste informazioni e queste scritture però il legislatore richiede anche delle specifiche diciamo peculiarità da seguire nella modalità di conservazione perché chiede che lascia liberi lascia liberi gli operatori di mercato di utilizzare qualunque modo di conservazione non è più previsto come obbligatorio l'abbiamo già detto l'archivio unico informatico quindi è possibile la conservazione cartacea così come è consentita l'utilizzo di archivi informatici o comunque informatizzati è necessario però che venga garantita la non alterità dei dati cioè i dati devono rimanere immutabili dopo l'acquisizione non devono essere utilizzate in modalità attraverso le quali sia possibile poter intervenire magari modificare la data dell'operazione che è uno dei dati che devono essere indicati è necessario che venga garantita una facile accessibilità a chi? alle autorità competenti in qualunque momento e nell'arco dei famosi dieci anni l'unità di informazione finanziaria deve poter accedere a questi dati in maniera semplice non in maniera farraginosa così come quando è che sorge l'obbligo di conservazione l'obbligo di conservazione sorge non ad libitum a piacimento dell'operatore ma l'obbligo di conservazione deve essere assolto entro 30 giorni o dall'inizio del rapporto continuativo ovvero dal conferimento dell'incarico ancora è necessario che dei dati che sono stati conservati le informazioni che sono state conservate venga garantita la storicità bisogna fare in modo quindi che tutte le informazioni siano complete e trasparenti e ci sia chiarezza anche sul momento storico in cui vengono acquisite ora abbiamo detto quindi che il legislatore lascia liberi gli operatori di scegliere se utilizzare lo strumento cartaceo ovvero lo strumento informatico però il quesito è è adeguato lo strumento cartaceo questo mi rivolgo magari anche al ministero e comunque insomma è una questione da discutere da dibattere comunque lo strumento cartaceo è davvero idoneo per sua stessa natura a garantire tutte queste caratteristiche cioè nel momento in cui da un lato lascia liberi il legislatore di utilizzare l'una o l'altra strada ma dall'altro lato chiede una serie specifica e così dettagliata di modalità di conservazione allora dobbiamo anche porci il problema se nel momento in cui si conserva sul piano cartaceo poi non posso essere esposto in un secondo momento per deterioramento del documento perché il documento cartaceo si deteriora molto di più chiaramente che non del dato informatizzato e che è in un archivio informatizzato ma questo diciamo è un punto insomma che va un attimo discusso eventualmente vediamo poi che risposte ci possono essere oltre all'obbligo di conservazione l'altro obbligo che grava sui sugli agenti immobiliari su tutti gli obbligati è quello di segnalazione ora l'obbligo di segnalazione quando è che sorge la segnalazione va fatta prima che si proceda all'operazione quindi quando si ha anche solo il sospetto che l'operazione che si sta per concludere possa essere in qualche modo avvicinata o comunque possa essere espressione del fenomeno di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo il sospetto quando è che deve sorgere quando può sorgere ci sono degli indici cioè dei parametri ai quali l'agente immobiliare così come qualunque segnalante si può si può rivolgere e chiaramente gli elementi sono sia come al solito soggettivi che oggettivi cioè bisogna aver riguardo innanzitutto al cliente chi è che sta compiendo l'operazione se si tratta di un soggetto che per contiguità familiare o per abituale convivenza oppure perché anche una contiguità lavorativa è vicino a qualche altro soggetto per il quale già è stata effettuata qualche altra segnalazione ecco questo è un indice che peraltro è segnalato anche tra gli indicatori di anomalia dell'unità di informazione finanziaria è un indice di fronte al quale l'agente immobiliare deve far sorgere il sospetto che ci può essere un'attività illecita un altro indice soggettivo riguarda la capacità patrimoniale o il profilo di rischio del soggetto la capacità patrimoniale è ovvio che se viene un cliente che per l'attività lavorativa che svolge si impegna a concludere un'operazione che esorbita per quanto riguarda l'entità e l'impegno economico rispetto alle proprie capacità economiche questo è un ulteriore elemento che deve far sorgere l'obbligo che deve far scattare l'obbligo di segnalazione altri elementi altri parametri sono di natura progettiva bisogna guardare l'operazione che si sta ponendo in essere quindi la natura lo scopo le caratteristiche e bisogna considerare l'operazione nella sua interezza cioè è ben possibile che ci possano essere operazioni che vengono frazionate per cui l'operatore di mercato deve tener conto del collegamento che ci può essere tra più operazioni in quel caso ovviamente scatta l'obbligo di segnalazione ho detto che bisogna fare la segnalazione prima quando si ha il sospetto quindi prima di compiere l'operazione tanto è vero che la UIF l'unità di informazione finanziaria potrebbe intervenire una volta scattata la segnalazione che va all'unità di informazione finanziaria l'unità fa le indagini e potrebbe intervenire per sospendere l'operazione perché potrebbe ritenere che quel sospetto quella segnalazione sia fondata e allora solo in quel caso l'operazione viene sospesa ma altrimenti una volta fatta la segnalazione l'operazione può essere comunque nel frattempo che vengono svolte le indagini può essere portata a compimento ci sono dei casi eccezionali in cui la segnalazione può essere fatta successivamente alla conclusione dell'operazione e sono i casi in cui o c'è una norma di legge che impone di ricevere l'atto obbligatoriamente oppure per la natura dell'operazione stessa non è possibile procrastinarlo oppure quando il differimento potrebbe andare ad ostacolare le indagini delle autorità competenti perché sospendendo magari o interrompendo o non portando a compimento l'operazione l'autore dell'attività criminosa potrebbe allarmarsi e quindi magari l'indagine potrebbe essere bloccata ora tutte queste segnalazioni in che modo possono essere effettuate per ogni categoria ci sono delle modalità una particolarità che abbiamo avuto modo di constatare un po' anche con i colleghi è che sicuramente per una mera vista nell'articolo 36 che parla delle modalità di esecuzione della segnalazione non sono non sono menzionati gli agenti immobiliari ovviamente si tratta di una lacuna evidentemente perché gli agenti immobiliari sono inseriti tra i soggetti obbligati nelle modalità di esecuzione non viene specificato come devono fare la segnalazione nel voto normativo ovviamente che cosa come va riempito questo voto normativo con la procedura attualmente esistente anche perché dobbiamo ricordare che il decreto legislativo 90 del 2017 va a modificare ma non ad abrogare del tutto va a modificare in parte qua il decreto legislativo precedente 231 del 2007 quindi laddove non ci sono delle novità o ci sono delle lacune bisogna integrarlo con la procedura esistente qual è la procedura esistente? ce lo dice l'unità di informazione finanziaria istituita presso la Banca d'Italia cioè bisogna utilizzare il portale Infostatta previa registrazione di chi? del segnalante ora chi è il segnalante? sempre ce lo dice l'unità di informazione finanziaria il segnalante è o la persona fisica che è ovviamente il titolare la persona fisica oppure in caso di persona giuridica è il legale rappresentante o un delegato che è il responsabile della segnalazione di operazione sospetta ora su questo punto io vorrei sollevare un quesito sempre al ministero poi non so se è possibile sì no soltanto brevemente siccome in base a un provvedimento dell'unità di informazione finanziaria il referente può delegare un terzo a effettuare la segnalazione all'unità sì 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 e quindi quindi mi fermo qui va bene va bene una delle domande che faremo dopo anche nel senso di fare il tema avete potuto constatare nella relazione dell'avvocato vitale come il senso della norma ma ce lo dirà ancora meglio poi la dottoressa Fontana sia abbastanza liberale in questo senso cioè potete registrare potete conservare potete cioè toglie tutti quei lacci e quei lacciuoli che tanto danno hanno dato alle casse degli agenti immobiliari e non certo a quelle dei riciclatori quindi devo dire devo fare i complimenti per questa parte al ministero perché effettivamente nell'elaborare la norma si è tenuto conto delle segnalazioni di quello che le categorie la categoria voleva cioè stiamo andando nel senso della semplificazione poi è chiaro che fare lotta al riciclaggio e semplificare tante volte non vanno non vanno di pari passo invece sul tema della segnalazione è qui un punto d'attenzione va fatto forte e chiaro perché le segnalazioni degli agenti immobiliari nel 2014 o nel 2015 in tutta Italia una allora o non c'è il riciclaggio oppure c'è un problema e non è che noi agenti immobiliari siamo riciclatori ma molto probabilmente quando una norma non trova applicazione molto probabilmente siamo in presenza di una norma che non consente di accedere agevolmente a questa cosa allora la richiesta che avanzeremo dopo questo convegno è proprio quello di rendere più fruibile la parte della segnalazione un episodio a Reggio Emilia adesso c'è un processo in corso il famoso processo a Emilia che vede imputati 350 persone un po' dell'endrine calabresi ma anche degli emiliani e così via bene tutto questo scandalo questa infiltrazione mafiosa Reggio Emilia è tutta nell'edilizia e non c'è stata una segnalazione antiriciclaggio da parte di nessuno allora vuol dire possiamo credere che tutti i cittadini di Reggio Emilia l'amministrazione pubblica e quant'altro siano siano conniventi no non lo possiamo credere quindi su questo tema c'è ancora tanto da lavorare per rendere agevole la segnalazione che è poi il punto di arrivo di tutta l'attività antiriciclaggio che noi facciamo cioè lo scopo di questa norma è beccare i malafitosi e quindi sulla segnalazione secondo me c'è tanto tanto da fare con piacere vi dico che è arrivato un amico della categoria degli agenti immobiliari e un'istituzione di questo paese e del governo il sottosegretario alla giustizia Cosimo Ferri che invito a portarci un saluto grazie buon pomeriggio sono io che ringrazio voi e ringrazio le tre associazioni che organizzano questo incontro quindi tre presidenti ma tutti gli associati la FIMA tra l'altro ero accanto proprio al vicepresidente la FIAIP l'amico Righi che mi coinvolge sempre mi invita e lo ringrazio tra l'altro anche il ruolo di coordinatore delle delle tre associazioni da punto di vista organizzativo e la NAMA quindi ringrazio questi tre soggetti i presidenti e tutti voi perché devo dire è una normativa nuova ho ascoltato l'intervento che mi ha preceduto e chiaramente in tutti voi operatori c'è qualche preoccupazione però vorrei cercare intanto di dire una cosa io come l'amico Righi sa la mia esperienza è quella di magistrato quindi la mia professione è quella e devo dire che quando un professionista come voi la gente immobiliare che fa attività sul territorio è professionale è capace è preparato è davvero di aiuto nella lotta alla legalità ed è questo il senso anche di queste normative si diceva no ma le segnalazioni poi ce ne sono poche ce n'è stata una se andiamo a vedere anche nell'anno passato le sanzioni che poi sono state date perché la normativa c'era già seppur diversa sono 197 quindi all'anno quindi sono temi che ci si dice ma o non succede niente che è tutto regolare oppure forse occorre un cambio culturale e cambiare questo quindi il primo messaggio che voglio dare il senso è insieme dobbiamo dare un cambio culturale io lo dico sempre anche quando la FIAP mi invita ma ci credo veramente quando la gente immobiliare lavora bene e le due parti si incontrano e formate l'accordo tra due parti contrattuali si crea meno contenzioso perché se il contratto di locazione o il contratto di compravendita se le clausole inserite se tutta quella serie di adempimenti o la differenza tra opere di ordinari o straordinari a manutenzione e tutte quelle regole che voi conoscete meglio di me sono ben definite quando il rapporto contrattuale il consenso si forma con regolarità con chiarezza è chiaro che non si crea contenzioso e questo è un punto oggi parliamo però di antiriciclaggio ed è un modo per coinvolgere il professionista che posso dire di vario tipo dal notario al commercialista all'agente immobiliare a chi gestisce crediti nel dire anche tu fai parte dal punto di vista istituzionale nella lotta contro riciclaggio come paladino e come persona che comunque se sei di fronte al cliente puoi svolgere un ruolo importante nella lotta anche alla legalità da qui nasce il senso di una direttiva che comunque è una direttiva comunitaria che noi chiaramente abbiamo dovuto recepire tra l'altro questo governo ha inserito anche il reato di autoriciclaggio che mancava nel nostro nel nostro codice e quindi è un modo per coinvolgere la categoria che già è coinvolta per l'esempio che facevo prima nella quotidianità e nella lotta per la legalità del resto abbiamo seguito insieme con Righi la modifica all'articolo 348 del codice penale la lotta all'abusivismo voi mi dovete spiegare perché dobbiamo assistere a persone che fanno la vostra professione senza pagare le tasse senza avere un ufficio senza avere una regolarità anche di formazione di controllo e invece ci sia un soggetto che paga le tasse che ha il collaboratore che denuncia tutto e che tutto quello che comporta e quindi anche sulla lotta all'abusivismo io mi auguro che possa proseguire quel provvedimento sul quale abbiamo lavorato al Senato che è importante proprio per la concorrenza per la lealtà per la lotta contro l'illegalità perché anche questa è una forma di illegalità troppo facile vendere un immobile e trovare due al bar senza nemmeno avere tutta quella quell'iter procedurale e di norme non solo fiscali ma anche altre norme che devono essere rispettate quindi questo è importante inoltre lo dicevo già in un convegno che abbiamo fatto alla Spezia e le voglio ridire visto che io oggi ricopro l'incarico di sottosegretario al Ministero della Giustizia stiamo noi anche dal punto di vista tecnologico e informatico cambiando un po' anche il sistema delle vendite degli immobili noi abbiamo fatto tutta una serie di legislazione guardando a tutelare il diritto di credito perché se in questo Paese noi muoviamo tuteliamo il credito il cittadino investirà perché se io ho un credito e so che il mio debitore non mi paga che in tempi brevi potrò ottenere la tutela al mio diritto è chiaro che sono più tranquillo nell'investire e questo lo guardano non solo le persone che vivono nel nostro Paese ma anche gli investitori esteri quindi anche sulle vendite e lo dico a tanti di voi che sono operatori del mestiere da ieri è partito il portale delle vendite pubbliche dove noi invitiamo tutti i giudici delegati tutti i delegati alle vendite a mettere in questo portale tutte le informazioni e quindi io ho un immobile che viene oggetto di una procedura esecutiva a Palermo non deve saperlo solo Palermo è vero che è già prevista la pubblicità sui giornali e tutto quello che prevede però vogliamo creare un mercato nazionale internazionale tecnologico e vogliamo coinvolgere anche gli operatori come voi quindi nel capire come si accede come funziona quali prospettive e così anche la gente di Milano può inserirsi in questo mercato rispetto a quello come è giusto che si inserisca dove è l'immobile perché comunque ci sarà più possibilità di vendita di occasioni e anche di conoscenza quindi vi invito e l'ho detto già in altre occasioni a verificare questo portale delle vendite pubbliche online dove mettiamo anche e chiediamo più trasparenza nelle procedure di vendita per quanto riguarda le procedure fallimentari di esecuzione immobiliari anche nella fase della vendita e è stato promosso quindi dal Ministero della Giustizia e vuole essere un marketplace unico nazionale è entrato in vigore ieri ed è il primo tassello di quel piano triennale anche sulla digitalizzazione che stiamo introducendo al Ministero della Giustizia ed è molto tecnologico ma nello stesso tempo vuole generare un cambio di prospettiva per accelerare le procedure perché in molti tribunali sono veloci in altri sono lenti e si blocca anche il mercato quindi vogliamo che in questo portale siano pubblicati e messi in vendita i beni mobili e immobili oggetto di tutte le procedure fallimentari ed esecutive aperte sul territorio nazionale e chiaramente magari il cittadino non sempre riesce ad accedere o comunque a capire perché poi siete voi gli esperti del mestiere e quindi potete essere di aiuto nel diffondere e nel capire come si accede a questo portale questo è un esempio di coinvolgimento e di far capire come poi tutto quello che riguarda la vendita e l'immobile e non solo comunque sia determinante nella vita di ciascuno di noi non solo come prima casa ma anche in tutto quello che riguarda i tempi della giustizia la tutela del credito e tutto il contenzioso che si crea a volte intorno all'immobile quindi incontri come questi sono importanti per responsabilizzare da una parte dall'altra però confrontarsi e far capire come il vostro lavoro sia percepito voi lo sapete nella realtà di tutti i giorni ma anche chi rappresenta le istituzioni deve sottolinearlo e rivendicare l'importanza la peculiarità del vostro lavoro anche nella lotta contro l'illegalità ma anche nella riduzione del contenzioso perché più lavorate nel modo migliore voi e meno contenzioso si crea e lo dico anche appunto come dicevo prima dall'esperienza delle aule di giustizia e dal contenzioso che ho visto per anni sulla legge perché poi il tema oggi è l'antireciclaggio l'obbligo che viene introdotto da questa direttiva è proprio quello di verificare la clientela però noi non dobbiamo partire nel nostro paese molte volte si parte con la cultura del sospetto non deve essere questo il motivo e la linea da seguire dobbiamo cercare solo di far capire come siamo impegnati nella lotta contro l'abusivismo e ciascuno di noi si indigna nel vedere quello che fa tutto regolarmente quello che invece ottiene gli stessi risultati a costo zero capire come anche la professionalità e il ruolo dell'operatore e di tanti di voi cambi con questa norma e quindi una clientela che comunque fa piacere anche a voi nell'ottica di capire il soggetto che avete di fronte perché non deve esserci la cultura del sospetto ma nello stesso tempo ci devono essere delle garanzie che voi date a voi stessi al mercato all'altra parte contrattuale e anche al sistema e quindi alla tenuta c'è tutto il tema poi di chi definire persona politicamente esposta che però deve essere anche sì introdotta ma dobbiamo anche dall'altra parte semplificare perché non dobbiamo pensare che queste norme introducano solo delle complicazioni ma noi dobbiamo guardare sempre alla semplificazione e alla meno burocrazia perché molte volte è questo e su questo io prima di venire qui tra l'altro ne parlavo anche col vice ministro del MEF Casero e parlavamo proprio di questo tema e lui mi ha detto guarda che noi abbiamo istituito presso il MEF un tavolo dove fanno parte i professionisti e anche la Guardia di Finanza la Banca d'Italia proprio perché vogliamo che questo tavolo faccia emergere alla luce di questa norma le norme attuative da fare in tema anche di semplificazione e anche suggerisca delle proposte normative laddove ci sia da modificare qualcosa quindi è una norma che non deve spaventare deve responsabilizzarci farci capire quanto sia importante nel sistema anche economico comunque evitare che ci siano operazioni sospette e movimenti che possano appunto nascondere qualcosa di illegale ma nello stesso tempo anche oggi se poi l'amico Righi e gli altri presidenti vorranno portare all'attenzione del MEF e anche del Ministero della Giustizia un documento che segnali le prime criticità questo tavolo è la sede per lavorare e modificare quello che deve essere modificato sia dal punto di vista di norme attuative che di norme primarie così come devo dire ne parleranno forse i relatori che interverranno dopo le circolari che sono intervenute conoscete tutti quelli della Guardia di Finanza del 7 luglio 2017 quindi è recente di qualche giorno fa dove è stato detto dalla Guardia di Finanza in una circolare che le omesse ritardate o in complete registrazioni in archivio unico informatico o nel registro della clientela non saranno più sanzionabili così come l'omessa istituzione dell'archivio del registro la brocazione tacita delle sanzioni il decreto legislativo 90 2017 ha infatti eliminato ogni riferimento agli obblighi di registrazione all'archivio unico informatico in qualche modo prevedendo la liberalizzazione delle modalità di conservazione dei dati però permane l'obbligo di registrazione e conservazione dei dati che di fatto impone l'utilizzo da parte del professionista di un registro cartaceo informatico attraverso l'ausilio di un software antiriciclaggio quindi da una parte si toglie e si chiarisce dall'altra si dice ma comunque cerchiamo anche dal punto di vista tecnologico e dell'antiriciclaggio di modernizzare e adeguarci alla direttiva anche gli ordini professionali sono chiamati in gioco a questo cambiamento per cercare di dare una disciplina come organi di autoregolamentazione e come disciplinare le modalità di conservazione quindi c'è una circolare invece del MEF sulla gradazione delle sanzioni che segue la gravità delle violazioni anche su questo sapete che dalle condotte plurime e dalla dicitura ripetute sistematiche plurime gravi si è arrivata poi una dicitura anche diciamo più a una condotta meno grave per cercare comunque di porre l'attenzione seppur poi come sanzione sia ridotto in termini di quantità di somma da versare insomma ci sono tanti temi aperti sui quali c'è la disponibilità ad un confronto sia per quanto riguarda le segnalazioni tardive le sanzioni le definizioni e gli adempimenti tutti gli obblighi documentali perché ci sono degli obblighi documentali che preoccupano però è anche vero che da una parte abbiamo inasprito e cercato di intervenire nuove ipotesi anche sanzionatorie però dall'altra si è introdotto un regime sanzionatorio più mite rispetto a quello del 2016 proprio su tutta una serie di adempimenti che sembravano solo formali e documentali quindi va vista secondo me a 360 gradi siamo aperti comunque al confronto non voglio rubare altro tempo perché comunque ci sono tanti relatori il messaggio che volevo dare è quello sì a segnalazioni sospette sì a gravità di comportamenti ma è una normativa che vuole punire e nasce proprio come antiriciclaggio come lotta al terrorismo perché i terroristi si finanziano anche a questi ma non devono preoccupare il mercato quello diciamo spicciolo perché poi in tutte le cose ci vuole il buon senso e quindi penso che l'attività quotidiana che poi molti agenti immobiliari fanno o la coppia proprio ieri mi sono trovato in un'agenzia immobiliare dove c'era una coppia di giovani lavoratori che si accingevano a fare un contratto di locazione per un immobile e certo tutto questo tipo di attività non penso che debba preoccupare ma debba anzi nella norma antiriciclaggio si guarda anche una semplificazione su tutta la serie di adempimenti quindi io auguro a tutti buon lavoro per quanto riguarda il nostro ministero anche se quello poi più competente su queste materie è anche il MEF però parlando di giustizia siamo disponibili sempre a un confronto e anche a recepire le critiche per cercare di migliorare comunque buon lavoro a tutti quanti perché io credo fermamente nella vostra attività e anzi vi ringrazio per l'attenzione e la serietà che ponete nella maggior parte dei casi di fronte a tanti diritti dalla coppia che piglia la prima casa in locazione o l'acquisto della prima casa a tanti momenti della vita di ciascuno di noi che sono fondamentali e che quindi segnano il passaggio anche importante dal punto di vista emotivo della crescita di ciascuno di noi quindi buon lavoro e grazie ringraziamo il sottosegretario che ci ha diciamo ha rimarcato il fatto appunto di questa norma che in ogni caso è volta alla semplificazione siamo siamo diciamo molto contenti di questo anche sul discorso diciamo delle sanzioni ti ha anticipato ha anticipato un po' il tuo diciamo ha fatto l'introduzione hai avuto l'introduzione al tuo tema dal sottosegretario alla giustizia allora adesso l'avvocato Mammani ci parlerà appunto del sistema sanzionatorio e dell'obbligo di astensione un saluto a tutti sì in effetti non potevo avere un abbrio migliore tra l'altro condivido tutto quello che ha detto l'onorevole c'è stata una bella semplificazione e anche razionalizzazione in tema di sistema sanzionatorio ci eravamo preoccupati molto l'anno scorso con l'entrata in vigore del decreto di penalizzazione del decreto legislativo 8 che aveva inciso anche sull'antiriciclaggio aveva portato a delle conseguenze anche in parte estreme perché lo ricordava prima il presidente Righi si è arrivato anche a vedere sanzioni o perlomeno contestazioni di illeciti che superavano i 5 milioni di euro a vostri colleghi oggi probabilmente a tanto non si arriverà più anche perché come hanno detto i precedenti relatori è venuto meno questo obbligo di registrazione quindi ritenuta di questo archivio unico registro della clientela che dir si voglia che era quello che creava poi anche le maggiori tensioni problematiche in tema di adempimenti e quindi di sanzioni prima però di affrontare il tema del sistema sanzionatorio farei un cenno a un ulteriore obbligo che è residuale rispetto ai tre principali che sono già stati affrontati dalle colleghe ma che potrebbe avere una qualche rilevanza con riferimento proprio alla vostra attività di agenti immobiliari mi riferisco all'obbligo di astensione che è disciplinato dall'articolo 42 che torna a ripetere può apparire come un obbligo marginale ma che con riferimento soprattutto all'ipotesi della collaborazione tra agenti immobiliari potrebbe avere una sua rilevanza perché perché vi leggo testualmente la norma questo articolo 42 dice che soggetti obbligati quindi anche voi che si trovano nell'impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela ovvero gli adempimenti che prima ci ha illustrato la collega Corvi che quindi significa poter identificare il cliente con la carta di identità individuare chi è il titolare effettivo e fare il profilo di rischio chi si trova in questa impossibilità deve astenersi dall'effettuare o proseguire l'operazione cioè non può compiere quell'operazione che gli viene chiesta fin qui in astratto la norma dell'anti-anticiat sono tutte norme generali astratto valgono per una probabilità di soggetti non sono state scritte con riferimento esclusivamente agli agenti immobiliari però se la caliamo nelle ipotesi della collaborazione possiamo avere tra virgolette dei dubbi interpretativi perché perché c'è stato detto che nel momento in cui due agenti immobiliari collaborano tra di loro e voi sapete meglio di me che ipotesi tutt'altro che infrequente soprattutto magari quando si trova a gestire un immobile che magari non si trova nella residenza del proprietario del venditore si trova magari la casa al mare o la casa in montagna il proprietario che risiede per ipotesi a Roma conferisce l'incarico al suo agente di fiducia di Roma il quale che cosa fa contatta l'agente di Cortina e gli dice collaboriamo l'agente di Cortina mette fuori le sue pubblicità trova l'acquirente che magari è di Milano che cosa succede l'agente di Cortina identifica fa tutta l'attività di adeguata verifica della clientela come ce l'ha descritta l'avvocatessa Corvi prima e tra virgolette acquisisce tutti i dati del cliente di Milano che è il potenziale acquirente così come aveva fatto l'agente di Roma con il suo cliente venditore bene alla domanda che avevamo fatto all'inizio degli adempimenti antiriciclaggio ovvero risalente al 2006 al Ministero ma in questi casi cosa possono fare e cosa devono considerare i due colleghi si possono scambiare i dati e in primo luogo entrambi devono tenere i dati devono acquisire i dati di tutti e due i contraenti o meno la risposta al tempo fu sì dovete acquisire ciascuno dei due agenti immobiliari deve acquisire i dati di entrambi i contraenti perché sono parte della medesima operazione e ciascuno deve identificarli personalmente cosa che noi sappiamo che non è operativamente dal punto di vista pratico sempre fattibile è inutile che ci nascondiamo e quindi io qua chiedo subito l'aiuto del Ministero e come associazioni noi una risposta potremmo già avanzarla cioè nel senso che in questi casi qui di regola la prassi è che ciascun un agente immobiliare ha il suo cliente e quindi poi fattura il suo cliente esistisce il suo cliente quindi la gente di Roma ha come cliente diciamo il venditore nell'esempio che abbiamo fatto e la gente di Cortina ha come cliente il signore milanese che è l'acquirente il pensare che siano clienti di entrambi potrebbe avere una logica da un punto di vista di diritto ma da un punto di vista pratico è difficile che in tutte le circostanze in tutte le occasioni si possa avere modo e luogo di identificare personalmente da parte di ciascuno dei due agenti immobiliari anche l'altro soggetto cliente del collega orbene se dovessimo applicare alla lettera così come è scritta questa norma dell'articolo 42 nell'impossibilità di eseguire gli obblighi ad adeguata verifica della clientela ovvero per l'agente immobiliare di Roma nell'impossibilità di identificare valutare e fare tutta l'attività di adeguata l'attività nei confronti del cliente milanese dovrebbe astenersi da proseguire quell'operazione quindi o a modo di incrociarlo di incontrarlo di vederlo o diversamente stando a un'interpretazione rigorosamente letterale della norma quell'operazione non potrebbe farla ripeto la prassi operativa va in un altro modo e non crea francamente problemi particolari anche perché c'è il collega di Cortina che esegue anche lui questo tipo di attività è previsto nell'attuale disciplina del decreto legislativo 231 come modificata del decreto 90 che l'obbligo di adeguata verifica della clientela possa essere anche effettuato da un soggetto terzo lo prevede espressamente l'articolo 26 però il problema è che l'articolo 26 indica anche quali sono questi soggetti terzi e tra di loro non è compreso il collega agente immobiliare sono le banche gli istituti finanziari oppure il professionista nel confronto di altri professionisti l'agente immobiliare non è ricompreso nelle definizioni del decreto nella categoria dei professionisti quindi purtroppo non abbiamo la possibilità di usufruire di questa estensione che era stata giustamente introdotta in questo decreto per carità il decreto torno a ripetere riguardo a una platea ampia di soggetti obbligati non è stato scritto soltanto per gli agenti immobiliari voi avete questa particolarità di essere tra le poche categorie o forse l'unica che ha due clienti tutte le altre categorie anche di professionisti di regola hanno un cliente e quindi probabilmente è sfuggita al legislatore la circostanza l'ipotesi non è stata disciplinata fatto sta che nell'articolo 26 dove sono indicati i soggetti che possono adempiere eseguire l'obbligo ad adeguata registra per conto di un terzo non sono compresi i colleghi agenti immobiliari allora ripeto questo articolo 42 che introduce questo obbligo di astensione che può apparire marginale in effetti non ha la stessa rilevanza dei precedenti tre obblighi che abbiamo verificato l'adeguata registra della clientela la segnalazione e la conservazione che sono i obbligi principali però potrebbe avere una sua rilevanza una sua incidenza con riferimento all'attività specifica quindi la nostra preghiera è al ministero affrontiamo anche questo aspetto vediamo di dargli una soluzione perché diversamente la situazione non è facilmente risolvibile da un punto di vista pratico fatta questa parentesi passo al sistema sanzionatorio dove vi dico condivido tutto quanto ha detto prima l'onorevole Ferri c'è stata un'ottima razionalizzazione c'è stata una graduazione delle sanzioni e una semplificazione anche delle stesse è stato mantenuto il doppio binario sanzioni di natura penale e sanzioni di natura amministrativa però sono a mio modesto giudizio state evidentemente razionalizzate perché quando si parla di sanzioni di natura penale che contemplano l'arresto dai sei mesi ai tre anni si prevede una condotta attiva da parte del soggetto obbligato nel falsificare i dati o nel conservare dati falsi quindi non è una svista non è una colpa è proprio una coscienza e volontà di fare qualcosa che lui sa per primo di non essere consentito quindi benissimo è chiaro che ci debba essere anche una conseguenza drastica e grave come può essere quella di natura penale per quanto riguarda invece le sanzioni di natura amministrativa sono state qui anche qui razionalizzate è stato un principio di gradualismo bisogna tenere conto di una serie di fattori che possono incidere sulla valutazione ve la faccio breve perché sono pure le nozioni ci fosse una violazione dell'obbligo di adeguata verifica di accrentela piuttosto che di conservazione c'è una sanzione amministrativa di 2000 euro che non è poco ma non sono le somme che si sentivano e erano previste prima laddove però questa violazione fosse grave o ripetuta si apre una forbice da 2005 a 50.000 euro per la violazione invece dell'obbligo di segnalazione che è tra virgolette la razio e lo scopo principale di questa disciplina quella di invitarci tutti a collaborare affinché si possano segnalare queste operazioni sospette la violazione di questo obbligo comporta una sanzione di 3.000 euro che anche qui passa da 30.000 a 300.000 laddove la violazione fosse grave o ripetuta e può addirittura arrivare fino a un milione di euro dove da questa violazione si è tratto un vantaggio economico quindi anche lì c'è stata in qualche modo una condotta denotata da una volontà di violare l'obbligo per trarre un vantaggio economico tra le altre sanzioni che segnalo ce ne sono una priorità è quella della violazione dell'obbligo di interrompere l'operazione quando arriva l'invito da parte dell'autorità in questo caso l'UIF che a fronte dell'assegnazione invita a non proseguire più in quell'operazione in questo caso la violazione di quell'invito che poi in realtà non è un invito ma è un obbligo composta una sanzione da 5.000 a 50.000 euro per quanto riguarda il procedimento sanzionatorio sarò sinteticissimo visto che il tempo poi stringe di regola nei vostri confronti l'ispezione viene condotta dal nucleo di protezione valutaria della guardia di finanza venisse facesse un'ispezione da voi se da quell'ispezione dovesse rilevare degli illeciti predispone un verbale dove annota elenca questi illeciti e propone una sanzione questa sanzione viene comunicata notificata a voi comunicata al MEF il quale poi è l'ente che è deputato a combinare materialmente la sanzione cioè a mettere il decreto di pagamento entro 30 giorni da quando vi è stata notificata l'infrazione potete effettuare delle osservazioni al MEF sul contenuto del verbale ispettivo e potete anche chiedere di pagare in misura ridotta fino a un terzo dell'importo contestato diversamente il MEF emette il decreto di pagamento quel decreto di pagamento è immediatamente esecutivo e può essere opposto davanti al giudice al tribunale ordinario tribunale di Roma competente in via esclusiva qui mi limito perché è piuttosto complicato permettimi soltanto di citare un ultimo articolo che l'ha già anticipato l'onorevole Ferri ma che secondo me è anche lui degno di nota perché è un po' la sintesi di tutto questo atteggiamento nazionalizzante e più mite come diceva l'onorevole prima che connota questa ultima stesura di questa disciplina è l'articolo 69 che parla espressamente della successione delle leggi nel tempo e che dice che nessuno può essere punito per un fatto che attualmente non costituisce più illecito il richiamo va immediatamente al famoso registro della clientela o archivio unico che oggi non è più contemplato come diceva l'avvocatessa Vitale come obbligatorio anche se è caldamente suggerito di conservare in una maniera adeguata tutti i documenti ma non è più obbligatorio quindi eventuali infrazioni commesse nella redazione o compilazione di quel registro non essendo oggi più contemplato come illecito alla mancata tenuta di quel registro non dovrebbero essere più sanzionate e con questa notizia chiudo grazie 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 avvocato per la precisione salutiamo il sottosegretario Ferri che ci lascia per ulteriori impegni e naturalmente cogliamo il senso di quello che ci ha detto cioè di una di una norma in itinere di delle istituzioni che sono vicine alla categoria perché siamo insieme coinvolti in questa lotta appunto al riciclaggio e quindi non più una norma calata dall'alto ma una norma che cerca di integrare le esigenze della categoria dei lavoratori quali noi siamo con quelle appunto della lotta tal crimini su questo tema e sulla razio della norma cosa ha guidato il ministero nel recepire queste indicazioni che provengono dall'Europa appunto su queste cose ci parla la dottoressa Isabella Fontana del ministero dell'economia e delle finanze buonasera e ringrazio il presidente Righi ringrazio la consulta e le associazioni anche i relatori che hanno molto chiaramente illustrato la legge quindi non c'è assolutamente bisogno che ripeta i vari passaggi tra l'altro avete anche correttamente interpretato lo spirito della normativa la normativa viene più lontano più lontano non viene dall'Europa viene da un consesso che è ancora poco nota e più ma è un organismo internazionale di cui sono modestamente capo di regazione dell'Italia e l'Italia è composta non solo dal MEF che coordina in questo settore le normative di prevenzione ovviamente non di contrasto ma di prevenzione tramite il comitato di sicurezza finanziare che ha sede presso il dipartimento del tesoro ma è composto ovviamente da Banca d'Italia da Unità di Informazione Finanzaria da Guardia di Finanza da DIA DNA e Ministro della Giustizia con magistrati diciamo attivi delle procure di Milano e di Roma che fanno parte anche della delegazione dei lavori sia tecnici nazionali che internazionali quindi è una delegazione diciamo appunto non solamente finanziaria ma composita di tutte le autorità che fanno prevenzione e contrasto in Italia e l'organismo è il GAFE è un organismo diciamo di ormai di antica origine perché dell'89 che ha avuto una rilevanza maggiore dopo gli attentati ovviamente alle torri gemelle del 2001 e ha creato degli standard abbastanza congenti a livello internazionale nel 2003 l'Italia è stata presidente di questo organismo nel 2012 e sotto presidenza italiana sono stati emanati nuovi standard internazionali per il riciclaggio per il contrasto al riciclaggio e per il contrasto al finanziamento del terrorismo nonché anche la proliferazione delle armi di istruzione di massa che è diciamo un'aggiunta ai nuovi standard e non di poco conto diciamo visto quello che circola sul pianeta la rilevanza del riciclaggio il riciclaggio prima era considerato un reato diciamo tecnico poco conosciuto e anche non particolarmente usato era usato come parte dei procedimenti penali contro la criminalità organizzata adesso sta diventando invece un reato come dire a valle a valle di tutto a valle della corruzione a valle dell'evasione fiscale a valle anche si comincia a pensare anche dei traffici di migranti della criminalità organizzata insomma quindi è un reato che sta acquisendo una sua rilevanza autonoma ed è per questo che il sottosegretario ha richiamato il fatto che in Italia è stato introdotto il reato di autoriciclaggio il reato di autoriciclaggio cambia moltissimo la prospettiva penale perché ovviamente abbraccia tutto il campo dell'evasione fiscale che adesso entra prepotentemente come reato presupposto del riciclaggio quindi aumentano aumentano a dismisura gli indicatori possibili di anomalia di operazioni sospette perché appunto le operazioni possono essere relative anche semplicemente anche al reato presupposto ora senza ovviamente spaventare e richiamare quali sono gli obblighi di collaborazione attiva è giusto quello che ha detto il sottosegretario insomma ogni cliente non va visto come un potenziale criminale e anche il titolare effettivo non lo è perché adesso c'è molta come dire c'è molta teoria e molta il foro internazionale sono tutti su questo povero titolare effettivo che adesso renderemo tra poco pubblico perché noi siamo ancora sotto quarta direttiva europea quindi non abbiamo ricevuto la direttiva del 2015 ma io sto già seguendo con i miei colleghi la nuova direttiva europea la quinta che è incentrata soprattutto sui lavori sul titolare effettivo quindi come rendere accessibile questo dato non soltanto ai soggetti obbligati questa è stata una battaglia dell'Italia anche in ambito gafido europeo cioè rendere l'accesso di questo dato non soltanto all'autorità ma possibile anche per i soggetti obbligati e su questo stiamo lavorando abbiamo già dei tavoli in essere con union camere e infocamere e mise per il decreto di attuazione della famosa sezione del titolare effettivo questa sezione del titolare effettivo diciamo l'Italia adesso l'ha declinata aperta soltanto autorità e soggetti obbligati e a chi dimostra un interesse legittimo noi l'abbiamo declinato con un interesse legittimo collegato a un procedimento giurisdizionale in cui diciamo la parte ha un interesse a sapere chi è il titolare effettivo probabilmente della sua controparte in un procedimento diciamo contenzioso civilistico e il futuro di questo sarà che ogni cittadino potrebbe potenzialmente avere il diritto a sapere chi è il titolare effettivo quindi questo titolare effettivo diventa quasi più importante diciamo del cliente società nell'ambito del circuito antiriciclaggio ed è per questo che l'identificazione del titolare effettivo non può essere più considerata in subordine ma quello e quella congiunzione e che trovate ogni volta che trovate la parola cliente e titolare effettivo vuol dire che i due quando stiamo parlando di società di capitale o di persone giuridiche private quindi società di capitale fondazioni associazioni il titolare effettivo è essenziale che sia identificabile e identificato è chiaro che non deve essere sempre in nostra presenza è chiaro che noi davanti avremo il cliente che deve fornire sotto a sua responsabilità questo era già nella terza direttiva era già nella 231 articolo 21 il cliente ha la piena responsabilità le dati che vi conferisce quindi questo è un elemento importantissimo perché ovviamente è passibile anche di sanzioni penali il cliente ma non solo il cliente società il cliente impresa adesso ha un doppio onere cioè deve di svelare il titolare effettivo al soggetto in cui entra il rapporto d'affari ma deve di svelare il titolare effettivo anche a registro imprese e sarà fatta infatti l'anno prossimo credo una campagna di comunicazione dicevamo appunto rispetto ai clienti per diciamo renderli adotti del fatto che devono dare questo dato e conferirlo al registro quindi c'è una doppia responsabilità del cliente il soggetto obbligato ha la possibilità in futuro di verificare il dato che gli viene conferito al cliente con il dato depositato nel registro che ovviamente è un dato come dire confutabile quello è un dato dichiarazione di una società che può aver messo un nome per la maggior parte dei casi coinciderà con la proprietà legale perché adesso anche lì non stiamo cioè in Italia la maggior parte delle società come dimostrano anche studi universitari recentemente pubblicati non abbiamo diciamo queste strutture complicate diffusi sul territorio nazionale sono strutture prettamente familiari prettamente incentrate con titoli effettivi italiani però è chiaro che c'è un'attenzione maggiore anche sui trust e anche sugli obblighi del trust rispetto sia al registro che ai soggetti obbligati quindi è chiaro che gli agenti e che comunque i soggetti obbligati sono contornati di altri soggetti che hanno degli obblighi con gli agenti quindi non deve essere spostato tutto il peso la responsabilità di individuare questa persona del territorio effettivo sul soggetto obbligato che viene in contatto con un cliente diciamo la sezione del registro è stata fatta in ambito europeo perché l'ambito internazionale non è obbligatorio avere un registro di trovare effettivi proprio per questo proprio per bilanciare l'eccessivo peso degli obbligati riciclaggio che negli ultimi anni si era caricato sulle spalle dei soggetti obbligati l'obbligo di segnalazione l'obbligo di segnalazione è chiaro che è la spia ultima del fatto che si è fatta una adeguata verifica di segnalazione del documento o della scansione o delle ma soprattutto in casi diciamo importanti prevedere importanti che si è fatto soprattutto un'analisi della natura della transazione come diceva correttamente l'avvocato che si è fatta la natura anche della congruità di chi ci si presenta davanti con il tipo di transazione che si sta effettuando diciamo le principali operazioni sospette che quando dato luogo ad indagini sono nate da questa incongruenza rilevata da banche o da notari adesso diciamo il sistema dei professionisti si sta avvicinando molto al sistema delle sospette è chiaro che lì c'è tutto il problema che prima è stato citato anche dell'esposizione del soggetto che fa l'esineazione quindi si può pensare eventualmente anche a riflettere su questo perché ovviamente l'ordine professionale ha un filtro viene data l'operazione di sospette viene data tramite l'ordine quindi anche il notario l'avvocato il commercialista quello che magari potrebbe mancare a voi in questo senso c'è un filtro dove convogliare la responsabilità quella che nelle banche è il secondo livello cioè il filtro della compliance che manda l'operazione sospetta quindi questo è un fattore da considerare anche l'anonimato del segnalante ed è l'anonimato del segnalante in queste nuove disposizioni devo dire che è declinato anche in maniera abbastanza forte per quello richiamo che ci viene dall'Europa a proteggere chi diciamo ovviamente si rende autore di una segnalazione chi si rende autore di una segnalazione in un contesto più circoscritto chiaramente è più soggetto a essere esposto in qualche modo ne ha anche anche al cliente anche il fatto di giustamente di essere avere una cautela anche verso il cliente quando fai la segnalazione come non farmi accorgere quali elementi devo prendere in considerazione è chiaro che anche sugli indici di anomalia si potrebbe riflettere anche con l'initore di informazione finanziaria in futuro riflettere anche sulla categoria specifica l'initore di informazione finanziaria ha fatto degli schemi di anomalia su alcuni tipi di reati o su alcuni tipi di settori è chiaro che potrebbe si potrebbe intavolare un discorso del genere anche con l'initore di informazione finanziaria proprio specifico sulla categoria alcune cose potrebbero essere in comune con altre diciamo con con gli indici che sono stati dati per in Italia ad esempio per le transazioni quindi alcuni sono sicuramente sovrapponibili quindi siamo sicuramente disposti a raccogliere intanto diciamo quali sono le problematiche operative più immediate dell'interpretazione della legge e quindi vi invito anzi sono contenta di essere qui perché insomma vi invito a continuare questo dialogo anche diciamo col ministero anche in maniera scritta perché poi a prescindere dai quesiti e dalle risposte singole si potrebbe pensare anche a qualche linea guida o circolare interpretativa a prescindere da una normativa secondaria che non è detto che sia necessaria perché appunto la norma su alcune cose è abbastanza chiara quindi potrebbe essere sufficiente una circolazione interpretativa sempre del ministero però questo è chiedo che siamo aperti a questo e tra l'altro come vi dicevo probabilmente da qui a due anni potrebbero essere riaperti alcuni punti della rettiva proprio perché c'è in corso un altro dossier a livello europeo che andrà concluso noi speriamo insomma a breve questo vi ringrazio raccogliamo con soddisfazione questa apertura da parte del ministero a una piena collaborazione e ai contributi che possiamo portare come categoria e come operatori del mercato bene ora abbiamo ancora una mezz'oretta prima dell'intervento del presidente Diana Bellini che tirerà le somme della giornata e chiuderà questo convegno è molto interessante sapere e appunto chiedere già da questo momento fare alcune domande per ripanare eventuali dubbi quindi noi abbiamo preparato sei domande tipo appunto da fare alla dottoressa Fontana e allora chiedo partiamo da Maria Vitale la prima domanda facciamo domande brevi e risposte brevi naturalmente se queste domande fossero talmente precise e puntuali dal non trovare una corrisponsione della norma il ministero in questo caso la dottoressa Fontana prenderà buona nota e così iniziamo dal vivo a fare questo diciamo questo tavolo di lavoro questo brainstorming che può portare a una soluzione a favore della nostra categoria prego avvocato sì la mia prima domanda che è una sorta di domanda proposta è di carattere prettamente operativo diciamo così mi riallaccio quindi al discorso che stavo facendo con riferimento alla possibilità per il responsabile della segnalazione dell'operazione di sospetta di poter delegare un soggetto terzo che può essere un centro autonomo di servizi che deve avere non so determinati connotati particolarmente rigorosi magari riconosciuti dal ministero dell'economia e finanza per effettuare la segnalazione dei dati perché attualmente per quanto riguarda la categoria degli agenti immobiliari c'è una procedura che è quella che dicevo dell'infostat predisposta dall'unità di informazione finanziaria che è indubbiamente farraginosa e molto insomma richiede un livello di attenzione anche di competenza che non sempre a tutti i livelli gli agenti immobiliari possono avere quindi probabilmente potrebbe essere un'agevolazione cioè si va comunque nel senso della normativa e della riforma della semplificazione però sempre associata alla responsabilità e agli obblighi di segnalazione quello di poter delegare un centro autonomo di servizi non solo alla conservazione come già espressamente attualmente consentito dalla legge ma magari anche effettuare la segnalazione cioè il passo successivo ferme restando le responsabilità in capo ai soggetti obbligati perché allo Stato sul punto c'è stato anche sotto la vigenza della vecchia normativa una interrogazione al Ministero però il Ministero ha risposto che non era possibile fare delegare questa attività per ragioni di riservatezza e di tutela del segnalante però suppongo che magari su questo ci si può lavorare rendendo rigidi forse le caratteristiche che dovrebbe avere il centro autonomo di servizi per effettuare questa segnalazione questo è un tema complesso quindi sicuramente non rispondo adesso allora il centro autonomo di servizi è collegato al record keeping cioè alla conservazione dei dati perché lì ci potrebbero essere economie di scala che non incidono sulla responsabilità del conferimento del dato alla gestione e al mantenimento di quello che può essere un archivio centrale di quello che può essere una cosa che poi tra l'altro potrebbe essere fruibile per voi anche per altri fini o per confronti come diciamo prima magari tra colleghi che hanno clienti in diverse parti tali quindi potrebbe essere utile avere una rete di condivisione di informazioni per questo per quanto riguarda invece il conferimento dell'invio della sospetta lì è un po' diverso perché giuridicamente chiaramente l'ordine ad esempio faccio come confronto con l'ordine di Notai è un organismo di autoregolamentazione anche a poteri di vigilanza sui propri iscritti e quindi ovviamente chiaramente è un organismo che poi si rende responsabile in maniera primaria di avere eventualmente poi mandato o meno la segnalazione le banche hanno questa diciamo le grandi banche hanno questa rete ovviamente di filiali corresponsabili della compliance e del riciclaggio centrale che però fa da filtro perché tra l'altro il singolo direttore potrebbe aver mandato una segnalazione che invece è passibile di archiviazione per eccesso di zero ormai le banche mandano quintali di segnalazione sono arrivate a 100.000 segnalazioni quest'anno alla UIF di cui l'80% insomma 90% è coperta dal settore bancario quindi è chiaro che lì c'è anche una funzione di filtro di protezione ovviamente della persona fisica che ha mandato la segnalazione però di filtro tant'è che noi quando facciamo le sanzioni amministrative sulle banche il filtro è contemplato nella sanzione amministrativa nel senso se si è fermata se si è fermata a un certo punto la segnalazione e non doveva fermarsi doveva essere invece inoltre dalla UIF ovviamente la responsabilità poi giuridica della sanzione è del secondo livello cioè di chi poi non l'ha trasmessa di chi ha fatto un filtro che non poteva quindi è molto complicato pensare che una funzione che poi passibile di sanzione possa essere esternalizzata in qualche modo però ciò non toglie che potrebbero essere considerate da voi altre forme senza diciamo avere un organismo che sia necessariamente di vigilanza interna o di audit interno però dove convogliare però dove ci dovrebbe essere un responsabile non dico di associazione che si fa garante della responsabilità degli associati quindi diciamo creare questa sorta di secondo livello è possibile anche a livello cioè potrebbe essere possibile anche a livello associativo noi lo facciamo già ad esempio per la segnalazione agli abusivi laddove in certe città può diventare pericoloso per un agente immobiliare segnalare un abusivo la federazione le federazioni penso tutte il presidente firma la denuncia in modo insomma da renderla un po' esente da personalismi o da possibili ritorsioni Avvocato Corvi prego la sua domanda Allora se io ripropongo il quesito che avevo già sollevato prima parlando degli adempimenti di adeguata verifica e in particolare chiedo se continua ad essere corretto qualificare l'attività dell'agente immobiliare andarla ad inquadrare come operazione occasionale e come dobbiamo interpretare la disposizione che ci indica di effettuare gli adempimenti prima dell'esecuzione dell'operazione occasionale anche ricordando appunto quel decreto ministeriale del 2006 che aveva dato questa indicazione in merito alla conclusione di un contratto preliminare o definitivo qui poi faremo una riflessione per dargli magari una risposta anche compiuta e di validea generale è chiaro che la risposta che è stata data dal MEF in merito al decreto attuativo diciamo degli obblighi nascenti nel 2006 è addirittura pre-231 quindi siamo sotto seconda direttiva neanche sotto terza è chiaro che già la 231 nel 2007 ha cambiato sia l'obbligo d'astenzione sia la natura diciamo dell'instaurazione del rapporto quando si parla delle tre che lei correttamente ha enunciato l'articolo 17 le tre tipologie l'inconferimento dell'incarico ricorre più volte non solo l'articolo 17 anche dell'articolo 18 anche più avanti perché ovviamente e dice o no? perché di una presentazione occasionale oppure l'instaurazione di rapporto continuativo o conferimento dell'incarico è chiaro che se un conferimento dell'incarico è un conferimento formale anche se poi non segue una compravenda in quel momento io sto acquisendo un cliente quindi nella mia interpretazione adesso diciamo diretta nella lettura della norma lo vedo già come un inizio di rapporto di clientela e vedo anche lì prima della firma definitiva e conferimento dell'incarico eventualmente un pre-screening perché la norma da 30 giorni come correttamente lei ha ricordato e quei 30 giorni servono anche a questo prima magari di acquisirlo completamente come cliente fare la verifica dove lì non è immediata o l'identificazione dove non è immediata io prendo un po' di tempo e mi ricordo noi lo facevamo negli anni 90 anche in banca non si apriva subito un conto quando arriva una società ci si prendeva un attimo di tempo e poi dopo si richiamavano le persone e si firmava tutto perché quei 30 giorni possono servire eventualmente a dire no non vado avanti con questo cliente perché c'è qualcosa che non mi convince quindi quel prima è chiaro che cambia tutta la prospettiva del rapporto con la clientela e quindi il cliente è cliente da quando c'è un conferimento poi noi abbiamo il problema come categoria del conferimento verbale o del conferimento di incarico scritto e quindi è lì sul conferimento verbale cioè il cliente che passa guarda Franco devo vendere l'appartamento in via tal dei tali è chiaro che si apre un mondo e sempre più comprendiamo come abbiamo bisogno noi appunto come categoria di cambiare determinate prassi solo il 30% degli incarichi sono in forma scritta e in Italia dati agli agenti immobiliari e ancora meno sono quelli in esclusiva quindi è un tema che effettivamente ci sta molto a cuore e speriamo effettivamente ripeto ancora una volta è stato detto più volte che il ministero in una campagna informativa a largo raggio anche attraverso le televisioni spieghi un pochino quali sono anche le funzioni dell'agente immobiliare e quali siano anche i doveri dei cittadini perché purtroppo quando ci troviamo ad assolvere il notaio è molto più facilitato il notaio è pubblico ufficiale datemi questo la gente immobiliare da qualcuno sempre meno ma da qualcuno viene preso un po' sotto gamba beh no ma io ti devo dire io volevo solo vendere l'appartamento quindi abbiamo bisogno delle istituzioni che ci aiutino ce la dobbiamo fare da soli come categoria ma anche delle istituzioni che ci aiutano a aumentare questa percezione sociale del cliente all'interno diceva anche Santino nel suo discorso iniziale prego avvocato man mano e sto dopo sì allora io una domanda l'ho già fatta nel corso dell'intervento è quella sulla collaborazione tra agenti e ritengo che sia di estrema rilevanza per l'attività ne farei un'altra adesso che riguarda stime e valutazioni perché? perché abbiamo avuto un'esperienza diretta in un convegno a Milano fatto con un esponente della Guardia di Finanza il comandante della Guardia di Finanza ha detto che tutta l'attività dell'agente immobiliare è ricompresa nella disciplina antiriciclaggio e quindi anche un'attività che si dovesse connotare in una stima o in una valutazione francamente qualche riserva l'ha destata questa interpretazione perché se mi posso permettere nel 2006 il decreto ministeriale 143 che aveva declinato categoria per categoria quali fossero gli obblighi ci aveva semplificato molto le interpretazioni perché aveva detto con riferimento agli agenti immobiliari soltanto le compravendite immobiliari quindi le locazioni erano fuori le cessioni di aziende erano fuori i perizi erano fuori poi col 231 del 2007 i regolamenti di attuazione non sono stati più fatti quindi non è stato più declinato settore per settore attività per attività quali fossero le modalità di adempimento e quindi tutta l'attività rimane ricompresa nell'ambito della disciplina antiriciclaggio e quindi è dal 2007 che abbiamo cominciato a contemplare anche gli adempimenti in tema di locazioni o cessioni di azienda ma sulle stime francamente sulle perizie siamo rimasti un po' perplessi nel sentire questa interpretazione perché in una stima o in una perizia non c'è un trasferimento di un importo di denaro e quindi viene difficile immaginare che possa essere un'operazione che sottenda una volontà di riciclare del denaro o di finanziare un terrorismo però in difetto di un'interpretazione chiara o come lei prima ci ha suggerito ci ha indicato che noi apprezziamo di un parere magari di una circolare fatta dal ministero può essere che anche i funzionari che verranno a fare l'ispezione dicono siccome nulla è escluso a priori tutta la vostra attività è ricompresa e quindi anche una stima in caso in cui dovete fare una valutazione una perizia una stima dovreste adempiere a tutti questi obbligi ripeto le perplessità rimangono non so se lei è già in grado di darci un'indicazione una risposta oppure magari se possiamo confidare una circolare interpretativa sicuramente le perplessità ce l'ho anch'io adesso pensando a questa cosa perché ovviamente non ci sono non solo non ci sono mezzi di pagamento ma non c'è neanche poi alla fine le perplessità sono anche personali in questo riguardo perché non solo non ci sono mezzi di pagamento in quel caso a prescindere dalla eventuale pagamento della prestazione professionale in sede la stima perché non so se la Guardia di Finanza pensava anche a questo aspetto no ma su quello eravamo tra virgolette concordi nel ritenere che la prestazione fosse anche gratuita in una compravendita immobiliare fosse ad esempio avvenuta una rinuncia al diritto alla provvisione in ogni caso attività di compravendita io verifico faccio l'analisi del rischio tutto quanto perché lì è quell'operazione che potrebbe sottendere una volontà di riciclare del denaro o di finanziare il terrorismo ma laddove si faccia una perizia cosa segnalo cioè non c'è nessun tipo non c'è movimentazione di denaro e quindi manca quella che è la razza ispiratrice della legge che è quella di collaboriamo tutti quanti affinché non abbiano a compiersi quelle operazioni che tendono a riciclare del denaro o a finanziare il terrorismo su una valutazione su una stima su una perizia non c'è movimento di denaro però l'interpretazione di coloro che ammigliano vengono a fare i controlli è questa comunque rifletteremo anche con questo anche perché con la guardia di finanza ovviamente poi ci dobbiamo coordinare per quando loro poi inizieranno l'attività operativa di ispezioni in base alla nuova legge è chiaro che un collegamento col MEF da parte loro c'è sono tavoli continui con loro quindi su questo ci riflettiamo grazie diciamo ad oggi diciamo che ad oggi quella delle perizie e delle stime rimane un'interpretazione di un comandante seppur di un'autorità giudiziaria che forse aveva fatto qualche azione veniva dai NOX veniva dalle forze speciali e quindi è più aggressivo ma no no per l'amor di tutto era perfettamente in buona fede lui ha detto io non ho studiato analiticamente specificamente la vostra categoria parlo dell'attività in generale quindi secondo me chiedo a qualcuno degli astanti se avete una qualche domanda personale allora qua davanti il primo poi facciamo l'altro giro prego sì grazie allora buonasera a tutti ecco il microfono lo tiene il lo tengo io no no lo tiene perché se no dopo ci sono quelli che si impadroniscono e parlano per ora allora ricollegandomi alla domanda dell'avvocato Corvi sul momento dell'adeguata verifica c'è un aspetto che diciamo è peculiare dell'agente immobiliare abbiamo una parte venditrice ma abbiamo anche una parte acquirente se è vero la sua interpretazione è stata che la parte venditrice si deve identificare al momento dell'incarico il momento precedentemente al conferimento dell'incarico anche leggendo l'articolo della normativa ma la parte acquirente qual è il momento giusto per identificare la parte acquirente si mi chiamo Bimbi sono responsabile di una società che eroga servizi in ambito antiriciclaggio alle agenzie immobiliari su questo mi sembra chiaro appunto che ci sia l'esigenza di declinare anche queste casistiche giustamente perché lì non c'è un conferimento dell'incarico c'è semplicemente una persona che poi va e accetta e quindi è chiaro che lì sarebbe limitato poi alla firma dell'atto sarebbe l'intrebbe della definizione tradizionale del cliente che acquista però chiaramente l'esigenza di declinarlo anche rispetto a voi c'è perché questa cosa della doppia clientela è chiaro che è principio vostra e specifica del vostro settore il famoso assegno che si dà certo è chiarissimo è chiarissimo diceva appunto la dottoressa è chiaro che andremo a declinare anche questi momenti è comunque chiaro che l'acquirente quando firma la proposta quando fa un atto scritto esprime la propria volontà la volontà in un atto obbligatorio è chiaro che da lì iniziano tutte le procedure però declinarle è un bene Tonnina e poi il signore ecco buongiorno Paolucci di Infoas Centro Autonomo di Servizi Antiriciclaggio per in subordine alla proposta dell'avvocato Vitale il provvedimento per scuolo di maggio 2011 che è di UIF prevede la possibilità che il referente SOS abiliti un terzo soggetto ad operare sul portale Infostat quindi ad un quesito posto a Banca d'Italia Banca d'Italia ha risposto no se è un soggetto esterno all'impresa ma se fosse un soggetto interno all'impresa perché incaricato del trattamento dati oppure di responsabile del trattamento dati sarebbe a questo punto interno all'impresa e quindi potrebbe assolvere al compito non di fare da filtro come la compliance di una banca di un'assicurazione semplicemente a quello di operare sul portale due cose veloci uno il riscontro della clientela che fa l'agente immobiliare può essere fatto tramite l'anagrafe del detenuta da CONSAP lo SIPAFI la legge 64 del 2011 se non ricordo male ma l'accesso è precluso agli agenti immobiliari cioè soltanto banca assicurazione finanziaria possono accedervi mi potrei fermare diciamo va bene si fermi queste non sono domande queste sono richieste che però siamo qui ed è giusto che le raccogliamo perché se possiamo se possiamo migliorare c'è una circolare del ministero degli interni a firma del dottor Zappi del 2012 che prevede che chi utilizza l'archivio prima informatico oggi in modalità di conservazione in modo digitale all'obbligo ogni tre mesi di andare in questura e consegnare il dischetto credo che non lo faccia nessuno ma è un adempimento che se qualcuno andasse in questura lo guarderebbero come un alieno va bene passiamo dietro l'antiriciclaggio nelle locazioni quali sono gli importi soglia dove c'è l'obbligo di adempiere l'adeguata verifica della clientela posto che l'obbligo di adeguare la verifica della clientela scatta sempre nel momento della conclusione dell'affare rifacendomi anche la domanda che fece poc'anzi responsabile l'anticiclaggio della società cioè l'obbligo scatta quando c'è la conclusione dell'affare conclusione a norma di codice civile evidentemente però per le locazioni quali sono gli importi soglia dove siamo obbligati a fare l'adeguata verifica della clientela domanda chiara risponde l'avvocato Corvi allora l'argomento è stato oggetto di ampio dibattito anche nella vigenza della precedente normativa e le modifiche a portare dal decreto legislativo 90 non toccano diciamo questo argomento appunto come è stato chiarito anche dal ministero per diciamo valutare il valore di un contratto di locazione quindi capire se supera o meno la soglia dei 15.000 euro l'indicazione è stata quella di guardare al canone concordato dalle parti che può essere un canone mensile trimestrale annuo ora voi mi insegnate la categoria degli agenti immobiliari mi insegna che andando a leggere un contratto di locazione troveremo sempre scritto le parti concordano un canone annuo di euro pagabile magari in rate mensili trimestrali o qualsiasi altra rate azione e questo per un problema di natura pratica perché poi quando si va a registrare il contratto all'agenzia delle entrate occorre indicare il canone annuo quindi diciamo che ormai l'indicazione condivisa è quella di guardare al canone annuo così come concordato dalle parti e qui la signorina prima no bless oblige prego buonasera sono Anna Maddalena dell'area compliance di Engel & Falkers volevo chiedere quando il nostro cliente è una banca è ancora vigente il riconoscimento semplificato che tipo di documentazione materialmente dobbiamo chiedere visto che i dati comunque sono pubblici Corvi è stata estratta lei sono la prescelta peraltro qui io rispondo e lancio un quesito di nuovo al ministero magari sempre per la valutazione poi nell'ambito di questi approfondimenti che saranno necessari perché nel vecchio testo nel vecchio articolo 25 era previsto la possibilità di esenzione degli adempimenti quando si aveva a che fare con alcune categorie di soggetti come intermediari bancari pubbliche amministrazioni o società quotate sui mercati regolamentati ed era appunto prevista l'esenzione degli adempimenti quindi per questo tipo di clienti non era necessario provvedere all'identificazione adeguata verifica alla registrazione oggi la norma che si occupa dell'adeguata verifica semplificata è l'articolo 23 ora gli intermediari finanziari non compaiono più tra i soggetti per i quali è prevista la semplificazione ma ci sono altri soggetti rimangono le pubbliche amministrazioni rimangono le società quotate rimangono come soggetti a cui è possibile applicare un'adeguata verifica semplificata di clienti che risiedono in paesi a basso rischio di riciclaggio in base a delle indicazioni contenute nella stessa norma è stata eliminata l'esenzione degli obblighi e la previsione delle procedure semplificate è rimessa da questa norma agli organismi di autoregolamentazione e alle autorità di vigilanza di settore che dovranno specificare le procedure di adeguata verifica semplificata ora il mio dubbio è ma per gli agenti immobiliari che non hanno né un organismo di autoregolamentazione quali sono ad esempio gli ordini professionali per gli avvocati i commercialisti notari non hanno un'autorità di vigilanza come le banche o le assicurazioni come verranno quindi individuate queste semplificazioni in che cosa consiste quindi per noi la semplificazione questo è il dubbio un po' che rimane questa invece è una domanda importantissima perché si parla della valutazione del rischio la valutazione del rischio non ne abbiamo parlato ma è l'elemento fondante ai nuovi standard internazionali ed è stato traslato proprio per semplificare gli obblighi gli obblighi sono stati semplificati e resi più pressibili proprio perché c'è una valutazione del rischio e si vuole che le risorse non solo delle autorità ma anche dei soggetti obbligati siano concentrati laddove il rischio è maggiore ora la prima valutazione del rischio a livello nazionale diciamo ovviamente è di largo raggio ed è stata tra l'altro pubblicata soltanto una sintesi noi dovremo fare come ministero poi un aggiornamento con le autorità è chiaro che adesso subenteranno le valutazioni non solo degli organismi di vigilanza ma anche dei soggetti obbligati direttamente fatte da loro perché chi meglio dell'ordine avvocati o voi nel vostro settore conosce quali sono delle profilature di prodotti o clienti o tipo di transazioni che possono essere considerate a basso rischio quindi non esentabili ma magari con procedure semplificate quindi un po' la palla come dire passa democraticamente dal basso è chiaro che poi ci potrebbe essere una proposta essendo orfani diciamo di organismo di regolamentazione una proposta che poi magari può essere condivisa anche con i otai abbiamo fatto le linee guida in passato anche sotto l'altra normativa quindi diciamo in modo di non lasciarvi totalmente come dire da soli in questa cosa però sarebbe utile che le profiliature eventuali di clientela diciamo che magari meritevole o di transazione meritevole di procedura semplificata venissero proposte proprio in base alla vostra esperienza su tutto il territorio nazionale perché poi viene declinata in base anche all'area geografica al tipo di clientela insomma chiaramente il prodotto valutativo che poi può rimanere anche negli anni insomma di validità è un documento complesso una analisi complessa che va fatta a livello macro secondo me in modo che poi ci si ritrovino i vari territori incastonati dentro e adesso c'è una valutazione del rischio sovranazionale a livello europeo che è stata appena pubblicata però riguardo ovviamente i rischi che diciamo crossborde transnazionali tra i vari stati europei ma è interessante comunque da avere quel punto di riferimento ce l'avremo anche noi come autorità e sicuramente comunque vi consulteremo tra l'altro quando faremo un aggiornamento del nostro disco nazionale dell'autorità perché ovviamente il settore immobiliare è stato un po' trascurato la prima volta perché ci si è dedicati soltanto diciamo alle banche oppure a soggetti obbligati di più vasta scala quindi è un discorso che possiamo fare insieme Benissimo un'ultima domanda chi la vuole fare pezzetta ah no c'era il signore le ultime due prego Benissimo io sono Roberto Ricchi un agente immobiliare scendo nel pratico essendo molto anziano ma a noi chi ci difende nel senso queste leggi antiriciclaggio dove caricano di importanza teorica ma ci fanno assumere degli carichi enormi nessuno poi ci dà la tranquillità di poterlo svolgere questa situazione allora dico siccome non ha compravendita normalmente l'elemento fulcro non so perché ma è il signor notaio ma il notaio non è coinvolto in nulla perché non è che prende i documenti dei loro signori delle controparti ed accerta quale logica di provenienza ci sono noi invece li dobbiamo fare ma perché io debbo capire se lei e certo se lei mi dice sono i nipoti di Totò Rina venga a comprare per mio zio qualche problema me lo pongo ma in alternativa io non ho una divisa dalla guardia di finanza ma la devo sostituire non siamo riconosciuti come ordine professionale siamo trattati a calci da tutti e noi però dobbiamo sottostare alle leggi anti riciclaggio e il presidente Taverna molto intelligentemente diceva che gli abusivi fanno quello che vogliono ma non sono gli abusivi che mettono paura a me in questo senso ma gli architetti gli avvocati tutti coloro che intervengono facendo mediazione e bleffando su una parcella professionale vera e propria allora dico alla dottoressa Fontana che vedo molto precisa ma il ministero guarda solo da parte è strabico ma noi esistiamo per loro o no la vogliamo una volta tanto dare una conformazione reale giuridica importante professionale a questa attività se no è inutile che facciamo intervenire il sottosegretario anche lui ci fa gli applausi poi se ne fregano questo è il dramma mi date una risposta per fuori perché dopo 43 anni di attività non riesco a rispondermi grazie la risposta la posso dare io guardi siccome siamo colleghi e siccome quello che ha detto lei lo posso dire esattamente io dall'altra parte e penso che lo possiamo dire tutti noi siamo ormai io da un po' meno forse di lei ma facciamo questa professione da anni cerchiamo di lavorare tutti i giorni come associazioni proprio cercando di portare avanti questa cosa sa che nel il ministero dello sviluppo economico che è il nostro ministero diciamo quello che ci contiene che cura la nostra normativa da tempo nel 2006 aveva in animo di toglierci tutti i requisiti e di liberalizzare completamente facendoci diventare dei venditori tra virgolette per l'amor di Dio no no però ci volevano togliere anche i requisiti di accesso e tutta una serie di cose come hanno fatto in Spagna quindi completamente la legge non l'hanno fatto abbiamo bisogno di recuperare nei programmi delle varie associazioni qui non voglio entrare nelle cose penso che i programmi siano gli stessi per tutti cioè il tema di arrivare a una professione che deve essere proprio professione intellettuale proprio per avere quei diritti e quegli obblighi proprio propri della legge quindi il tema è non è che purtroppo si ottengono le cose in due giorni o in dieci giorni noi cerchiamo di metterci tutto quello che possiamo sicuramente e qui non c'entra il ministero sicuramente viviamo in un mondo in cui la politica è assolutamente sorda e cieca a quello che è ma d'altronde possiamo agire in due modi come associazioni e come cittadini uno quello di mandare scusi il termine affanculo la politica e non so fino a che punto mandare affanculo le persone possa essere utile per una battaglia civile e democratica forse per un cambiamento ma è il dialogo che porta e la proposta continua che porta poi a ottenere i risultati nei confronti delle istituzioni io penso che noi abbiamo il dovere da cittadini di assolvere queste cose ma come giustamente diceva di pretendere poi successivamente quello che è e le associazioni ci sono anche per questo per guidare o non guidare ma il tema è che tante volte per guidare o non guidare un processo intendo e chiudo dicendo tante volte appunto si accusano le associazioni di dire ma cosa fate voi associazioni beh noi associazioni tante volte ci chiediamo ma voi politici che cosa fate è assolutamente un vuoto c'è lo vediamo c'è la politica buona e la politica cattiva io in questi anni ho visto tanti politici seri di ogni parte e tanti farabutti come nella vita sociale come nelle associazioni come dappertutto quindi comprendo bene anche la luce faceva accenno prima il collega Santino nella nel suo discorso di apertura anche adesso sostituti di imposta tutte cose di uno Stato che è effettivamente in un momento di estrema confusione e noi ci siamo ci siamo in mezzo e quindi il valore di fare associazione è anche questo di cercare di condividere e cercare di risolvere questi problemi anche attraverso persone come la dottoressa Fontana che si prestano per darci una mano e per cercare di alleggerire questa cosa ma è in dubbio che noi abbiamo bisogno di un'altra qualificazione che non può essere quella degli agenti di commercio o di quello che siamo come inquadramento all'interno della cosa perfetto comunque la sua non era una domanda ma fregato bene ultima domanda prego breve perché dobbiamo chiudere con io non ci riesco glielo rendo non ci preoccupo molto breve anche perché tu sei vicepresidente nazionale di FIMA e quindi ha già parlato il tuo presidente quindi ti do due minuti no no ma sul fatto dell'antiriciclaggio sempre per il collega un piccolo un piccolo inciso noi in consulta avevamo pensato domanda la domanda la domanda viene subito dopo in consulta avevamo addirittura dandoci da fare per togliere il registro agognato che venisse fatto un registro centrale dove noi mettere i dati e in tempo reale avrebbe potuto controllare la pubblica amministrazione ma purtroppo non sembra quello che si desidera si riesce a realizzare e noi siamo dei pugili vero Paolo che si alzano danno i cazzotti li prendono vanno al tappeto e si devono rialzare quotidianamente chi fa l'associazione la domanda è questa mi è capitato stranamente perché capita anche che uno lotta per togliere un registro poi viene qualche associato a me e mi ha detto senti ma io siccome mi sono organizzato ormai mi serve anche per capire per controllare se ho preso i dati se mi sono fatto agli assegni se mi sono segnato tutto io ti dico il registro lo continua a utilizzare e mi ha fatto questa domanda lo posso utilizzare che succede se lo utilizzo io dico ma abbiamo lottato tanto per farlo togliere poi c'è pure chi ti domanda lo posso continuare a utilizzare poi mi è venuto in mente che in effetti non è che uno commette un illecito anzi a mio parere potrebbe essere una tua in più quindi la domanda che faccio a Mammani e alla dottoressa Fontana se uno continua a usare il registro lo può fare innanzitutto e io dico di sì non lo sa data la mia risposta ma cosa accade cioè viene preso come una tu o no chi ma io direi Mammani risposta unica la voce del ministero poi dopo Mammani mi interessa ma la domanda è semplice è quasi retorica però cogliamo l'occasione per dire sì nel senso che come diceva prima anche l'avvocatessa Vitale bisogna comunque conservare questi dati e renderli facilmente tempestivamente intellegibili all'autorità all'occorrenza quindi il catalogarli con un archivio unico informatico piuttosto che con un registro della clientela è un modo di conservazione anche dei dati oltre che di registrazione quindi chi registra fa di più di quello che gli viene chiesto di fare ma lo fa bene perché organizza il dato lo archivia in un certo modo con determinati criteri se lo fa anche a livello informatico con quelli che erano i parametri e i criteri molto ristretti e rigorosi che avevano i vecchi archiviosi informatici fa un dato che diventa subito e tempestivamente intellegibile all'autorità in caso di richiesta e quindi e sì la risposta è lo faccia non commette assolutamente un illecito questo è evidente fa sicuramente qualcosa che è apprezzabile così come è apprezzabile per dare una risposta alla dottoressa Fontana sul discorso della profilazione del rischio tutte le associazioni di categoria hanno predisposto una modulistica per fare questa valutazione del rischio e ciascuna ha cercato di dare una interpretazione tra virgolette ponderata a quella che poteva essere un criterio valutativo quindi se anche la legge non lo prevede come obbligatoria ma tutte le associazioni di categoria hanno predisposto delle schede di valutazione del rischio che tengono conto dei criteri che erano già indicati precedentemente che sono stati ribaditi attualmente sulla valutazione sia del profilo cliente che del profilo operazione quindi tenendo conto della natura giuridica del cliente della prevalente attività svolta del luogo di residenza tutte le associazioni di categoria proprio per dare un servizio proattivo insomma e concreto ai propri associati hanno predisposto queste schede di valutazione che invitano nella logica che diceva anche prima il vicepresidente Pezzetta a fare di più di quello che la legge impone di fare perché non c'è scritto da nessuna parte che c'è l'obbligo di tenere per iscritto questa valutazione come è stata eseguita ma è un servizio aggiuntivo che all'occorrenza in caso di verifica dovessero venire a distanza di anni a fare una verifica su un cliente magari che si è avuto 5, 6, 7 anni fa con la scheda di valutazione del rischio già compilata si offre immediatamente e tempestivamente quella valutazione all'organo che è venuto a fare la vigilanza quindi ripeto benvengano tutte quelle iniziative che non siano considerate come obbligatorie ma che sicuramente aiutano in quello spirito di collaborazione che ricordava sia lei che il sottosegretario prima da parte di tutti quanti nel soddisfare e adempia e assolvere questi obblighi antiriciclaggio bene allora ringraziando la dottoressa Fontana per l'apporto e quindi il ministero per l'apporto che ha dato oggi in termini di professionalità e di capacità nell'interpretare anche le norme per gli agenti immobiliari un saluto da parte anche del dottor Maresca che purtroppo oggi non è potuto essere presente anche lui e un saluto anche da parte del UIF dottor Criscuolo che ha avuto un impegno dell'ultimo momento ma sarà presente nei convegni successivi un ringraziamento a tutti i partecipanti naturalmente siete stati qui tre ore e non è semplice devo sentirmi del chiudere anche un ringraziamento anche alle associazioni perché se oggi abbiamo parlato di voglio dire di una semplificazione normativa questo si deve anche oltre alla capacità della politica anche le associazioni di categoria che ogni tanto fanno qualcosa chiudiamo questa giornata con le parole profonde dal podio per favore perché gli discorsi di chiusura si fanno dal podio del presidente Diana Paolo Bellini grazie no 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 sembrava la chiusura io ero felice sono partito da Rovigo questa mattina alle 5 per venire a fare le conclusioni sentivo già le conclusioni ma non era un problema perché penso che veramente l'ambiente che si è creato oggi e i contenuti di questo convegno ci portano a dire che sono quasi inutili queste conclusioni ma magari ci servono per dare direi chiarezza ad alcuni elementi allora uno mai come in questo momento sentiamo la mancanza del ruolo il ruolo che c'è stato soppresso dalla Unione Europea oggi più che mai sarebbe lo strumento necessario per dare a questo organismo il compito di segnalare per noi le operazioni sospette dice bene il collega Roberto Radicchi preparatosi alla formazione Anama a dovere che questa categoria ha ovviamente una sorta di attenzione al contrario noi siamo agenti immobiliari e come tali lavoriamo ovvero per raggiungere un obiettivo che ce lo dà poi il codice civile di concludere o comunque favorire la conclusione degli affari e su questo abbiamo due clienti a cui fa riferimento uno che è l'acquirente e che ovviamente è un soggetto da noi coccolato da noi seguito da noi come posso dire portato in un podio importante perché oggi più che mai il cliente è fondamentale si dice che la crisi sia stata appunto sia nata per la mancanza di domanda di acquisto dall'altro abbiamo il venditore il venditore è colui che ha desiderio di fare un disinvestimento vuole cambiare il modo di tenere i suoi soldini ben investiti un tempo si diceva i soldi li lasciamo nel mattone perché il mattone non ci tradisse oggi non vediamo altro che la gente che scappa dal mattone perché il mattone purtroppo pesa e pesa cosa? pesa il peso delle imposte pesano i dati della burocrazia per la gestione per il mantenimento per la logica direi che fa sì che il risparmio non sia più solo un risparmio immobiliare ma si rivolga anche ad altre situazioni e le altre situazioni poi sono così remunerative e quindi alla fine per fortuna ritorna il mattone protagonista della nostra vita la gente immobiliare ha un problema di terzietà noi dobbiamo tutelare questa nostra figura che è stato un cavallo di battaglia di Santino Taverna e della Fima da sempre e questa terzietà noi non vogliamo perderla e quindi al ministero diciamo sì se da un lato dal lato venditore al momento dell'incarico noi possiamo accorgerci che quel signore si chiama Reina e che probabilmente potrebbe avere il problema che diceva l'amico Roberto ecco che dal lato acquirente noi dobbiamo fare una sorta di investigazione su chi è effettivamente colui che viene ad acquistare perché non basta andare a verificare l'effettivo titolare della situazione e quindi del proprietario del bene ma chi è il titolare del denaro che viene pagato cioè colui che proprio porta il denaro e lo porta per un obiettivo ora abbiamo visto che i numeri ci danno una fotografia chiara non ci sono segnalazioni e noi ce ne stiamo preoccupando come associazioni perché in giro per l'Italia ci rendiamo conto che i nostri associati non sanno come fare ovvero vengono a sapere come dice l'avvocato Mannani che ci sono i nostri moduli che abbiamo predisposto una giusta collocazione della segnalazione ma molti hanno o paura di segnalare o non vedono l'utilità pratica di segnalare e allora ecco che viene in auge questo famoso ruolo che ci è stato tolto perché doveva essere questa l'organismo che ci doveva dare sostituirci in questa competenza ora vi devo dire che questi argomenti sono argomenti direi quasi quotidiani io mi permetto di dirvi che abbiamo degli ospiti che vengono da Mosca e abbiamo la responsabile delle vendite della Gabetti nel Vido Mosto non faccio pubblicità ma si chiama così la società che arriva da Mosca e che sta vivendo qualche giorno di festa ma oggi lo vive qui all'interno di questo tempio e il più delle volte mi viene chiesto ma Bellini come si diventa agenti immobiliari in Italia e quali sono gli adempimenti io vi dico che molte volte devo aprire un'agenda un appuntamento e stare dei giorni e spiegare quali sono i mille obblighi dell'agente immobiliare mille obblighi che vanno dall'obbligo di segnalazione di tutto ciò che in nostra conoscenza per una serena conclusione dell'affare a questa normativa anti-riciclaggio nobile per la quale noi righi in testa siamo a fianco delle amministrazioni perché non vogliamo essere collusi con la malavita noi siamo dei professionisti seri e come tali vogliamo andare avanti a testa alta non per niente la consulta nazionale dell'intermediazione su proposta di Santino la chiameremo consulta nazionale degli operatori immobiliari perché guarda caso siamo un sindacato anomalo tutti noi lavoriamo in questo settore e tutti viviamo il problema dell'anti-riciclaggio io per primo ho veramente difficoltà e quando le difficoltà sono tali cosa facciamo come fanno nelle compliance diamo degli ordini chiari ogni operazione venga segnalata se vogliamo stare tranquilli faccio per dire che sarebbe la esagerazione di un sistema perché il problema delle sanzioni ce lo ricordava Mannani non è cosa da poco perché 2.000 20.000 5.000 50.000 un milione di euro quindi cosa vuol dire fare l'agente immobiliare attenzione che potrebbe essere a rischio di galera chi non rischia la galera è l'abusivo Roberto giusto se il cliente lo viene a scoprire si rivolge all'abusivo perché deve andare dall'agente immobiliare iscritto che ha tutte queste incombenze e tutti questi impegni lo deve fare perché si deve sentire tutelato e quindi tre grandi richieste che noi dobbiamo fornire all'amministrazione pubblica intesa come governo uno tutelare la nostra professione la nostra professione non voglio fare della demagogia ma deve avere delle peculiarità specifiche dobbiamo essere chiamati per le stime e noi dobbiamo essere il punto di riferimento per le stime e non altre professioni due dobbiamo essere coinvolti nelle aste e non altre professioni ma noi dobbiamo essere coinvolti nelle aste il sottosegretario ci ha portato qui il portale degli immobili pubblici oggi partito oggi bene vedrete che saranno i commercialisti e gli avvocati ad avere la possibilità di rappresentanza in procura dei clienti ma non l'agente immobiliare per capirci l'incarico dato a un agente immobiliare all'asta non libera il soggetto che compra l'incarico dato all'avvocato fa sì che lui acquisti e agisca in nome per conto del cliente quindi perché queste distinzioni non siamo tutti dei professionisti obbligati all'antiriciclaggio non siamo tutti in questa categoria quindi vogliamo la parità di atteggiamento e poi i CTU io sono CTU da 1852 anni Roberto forse un anno dopo di te ma insomma siamo tutti consulenti tecnici d'ufficio ma che fatica abbiamo da parte dei magistrati ad essere incaricati in determinate situazioni perché quale motivo perché siamo degli agenti immobiliari siamo degli affaristi non siamo dei professionisti e allora stop all'equazione professionisti quando dobbiamo soggiasciare a degli obblighi ausiliari del commercio quando invece dobbiamo avere dei diritti no qui dobbiamo trovare un punto di equilibrio e l'antiriciclaggio ci porta ad essere protagonisti anche di questo dibattito quindi una battaglia in consulta che ci adegui in un certo qual modo al mondo delle libere professioni soprattutto per quanto dobbiamo avere degli obblighi a cui soggiacere i rapporti col ministero e col governo dobbiamo sapere che in molte situazioni tutte le associazioni di categoria hanno presentato direi richieste di pareri domande abbiamo sollevato questioni perché ci arrivano dal territorio il territorio ci chiede chiarezza nei comportamenti e nel supporto alle norme ma mai come in questo momento mi sento di dire che la consulta è l'organismo che può colloquiare a dovere con il governo quindi ben venga ben resti la consulta ad evitare anche situazioni un po' colorate che vediamo all'interno della nostra categoria ma dando alla stessa la consulta una rappresentatività fondamentale quando siamo uniti siamo forti e quindi questa forza la dobbiamo tenere vorrei dire con grande orgoglio e con grande come un grande tesoro cosa dire io non voglio fare la sequenza delle cose io voglio solo dire che avete sentito che l'argomento di oggi è un argomento in a divenire in continua voglio dire evoluzione abbiamo un mondo diviso fra operatori finanziari e operatori non finanziari siamo anche noi nel grande calderone dei segnalatori in una battuta questi casi si fa alle volte si diceva poi nelle nostre associazioni la FIAIP lo fa di fatto come si sostituiamo eventualmente nelle famose segnalazioni per gli abusi vi dico che chi vi parla ha subito tre aggressioni perché ha denunciato di abuso della professione un soggetto di quel territorio ma proprio perché vai a intaccare degli interessi incredibili il sommerso dottoressa Fontana è incredibile nel nostro settore il più delle volte noi ci sentiamo colpiti voglio dire di mala professionalità di situazioni negative quando non c'entriamo perché chi commette determinate situazioni il più delle volte è un abusivo è un soggetto che non ha un'iscrizione al ruolo fra virgolette ex ruolo ed è un soggetto che non risponde come diceva Roberto prima a tutti gli adempimenti che tutti noi dobbiamo rispondere quindi qual è il segnale di questa giornata uno la consulta è un organismo direi devo fare i complimenti a righe ben guidato in quanto ha una sua validità direi nel tempo lo sta dimostrando questa turnazione molto probabilmente è la sua linfa vitale e quindi queste tre associazioni oggi rappresentano insomma il mondo a cui rivolgersi due dobbiamo fare una battaglia seria contro l'abusivismo non lo dico come un fatto di novità ma di fatto probabilmente la seconda battaglia sulla quale dobbiamo misurarci la lotta l'abusivismo la si fa anche attraverso tecnicismi dottoressa che possono servire l'incarico scritto obbligatorio all'agente immobiliare in regola tu sei un agente immobiliare iscritto tu devi ricevere un incarico scritto non può valere l'incarico verbale orale non dico in esclusiva sto parlando di dare un incarico ad un professionista attraverso un segno forte che possa dimostrare con tanto di numero di iscrizione a rea quale sia la sua professione chi sia e come risponderà al tutto poi sapete che gli agenti immobiliari hanno degli obblighi fra l'altro anche buoni come quella della copertura assicurativa con i rischi professionali ovvero le varie altre situazioni che ne fanno di un soggetto nato come un commerciante oggi ne fanno un professionista e se tale deve essere vogliamo parità di atteggiamento Roberto è una battaglia che da tempo portiamo avanti vogliamo assolvere gli obblighi vogliamo essere parte fondamentale del mercato dell'intermediazione immobiliare e a fianco della pubblica amministrazione vogliamo dire anche noi abbiamo contribuito a far crescere l'Italia grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti